Facciamo sentire così ci sentono, altrimenti si infastidiscono, era voluto che non si sentisse. Mi chiede i titoli delle canzoni senza copyright, come se io potessi conoscerle. Il più grande esperto di canzoni senza copyright. Si sente? Ah, non stai con le cuffie. Sono senza cuffie, aspetta. Vabbè, l'ho messo bassa. Allora, allora, come vedete, come vedete, no, non è un cortocircuito, ho messo infatti la grafica del cortolite, non ho preso le cuffie, aspetta. No. Non è il cortocircuito, è il cortolite. Ci è presa la cortolite. Quando non abbiamo abbastanza coraggio per fare il cortocircuito, cosa facciamo? Facciamo il cortolite. Saremo in due? No. Arriverà anche il terzo, che è quello che abita più vicino, ma è anche quello che naturalmente è in ritardo. No, perché probabilmente non sapeva che... Eh, non sapeva che c'era il cortocircuito. L'ora legale. L'ora legale. No, dice, secondo me era festa. Era festa. Nessuno l'ho avvertito. Che oggi era festa per noi. Che schifo, che uomo veramente schifoso. È quello col Nom de Plume. Perché non è il vero nome, Alessio Piamesani. Ah, no? No, è il Nom de Plume. Ah, è come cosa? Quella lì... Come Samantha Fox. Come la ragazza geniale, come si chiama lei. È il Samorante? No. È il Samorante perché non si sa chi sia. Chi sia, no? È il Samorante. Se non sbaglio, che non si sa chi sia. Però mi sa che è. Che c'è stato un lungo periodo che si pensava fosse Maurizio Costanzo. Ma non è vero. Sì. È il Samorante. Sì. C'è stato un lungo periodo. Ma non era pure la cosa, tipo la Comencini, quella roba lì. No, la Comencini non era regista. Sì. No, la Comencini c'ha faccia. Eh, ma quel giro là. Secondo me era Elsa Morante. Elena Ferrante. Elena Ferrante. Non mi ricordo, Elsa Morante. Scusami, chi è quella che ha scritto la ragazza geniale? Elena Ferrante. Ah, allora Elena Ferrante. Scusate, non è Elsa Morante. Elsa Morante è Dacia Maraini. Anche Jessica Rizzo. Jessica Rizzo. Selen. Selen ha fatto 60 anni. Ma si chiama Selen? Eh no, sì. Qual è il nome vero di Selen? Eh, non me lo ricordo, però c'è tipo un nome Benedetta... Sì. Sor Benedetta Sor Maria. Bravissimo. C'è veramente... Selen Dion. Selen, nome vero. Luce Caponetro. Eh sì, c'è un nome particolare. Benedetta. Beh, perché... Sarebbe stato clamoroso, però si chiamava Benedetta. Beh, c'è Luce, però dai. Luce religiosa, quanto quasi Benedetta. Beh, no, dai. Luce no. Luce come me. Tra l'altro è figlia di un industriale del settore petrolifero. Sì. Lo sapevi? Sì, aveva le pompe petrolifere lui. No, lo sapevi questa cosa? Lo sai che a me quando... No, non lo sapevo. Lo sapevo che c'era... A me quando ero ragazzino e era giovane, a me lei piaceva tantissimo esteticamente. Non sto scherzando. Il viso era bellissima. Quando ero ragazzino era... Cioè, mi piaceva proprio esteticamente. Del 66. Sì, sì, sì. Luce. Luce Caponegro. Bella. La famiglia si trasferisce a Roena. Nella città romagnola inizia... Bella, interessante. Inizia anche il film intitolato... Eh, Spidi Pippa. No, è... Beh, comunque mi piaceva molto. Secondo me fra le porno star era esteticamente la più bella. La più bella, sì. Sì, dell'epoca perché era la più naturale. Sì, erano... Era quella fastica agliottanti. Orribile. Quella con quelle tette veramente brutte. A palloncino la faccia. Tutto bruttissimo. Lei era una bella figa quando era giovane. Molto bella figa. Purtanto non lo stanno vedendo. Vediamo se ci stanno... Ma anche invecchiaia. Sì, comunque si è invecchiata bene. Sì, sì. Non si è rifatta troppo. Vediamo se ci sta... Selen, giovane. Marvel Comics anche, cioè. Che significa se... Marvel Comics. Sì, era anche Marvel Comics. Oh, sì, da mo'. Sì, beh, bella proprio, dai. Ma non ci sta, però sono tutte foto che non c'entra niente con Selen porno star, però. Cioè, Selen Gomez, Selina Gomez, cioè. Allora... Non ti si sente. Due cose, due cose. Uno è... Dov'è il cibo? Devo ordinare, pensa. Pensavamo che lo portassi te. No, ma una cosa doveva fare. Ho scritto prendi qualcosa di buono. Tu hai detto, lo porto io. Mi piaceva tantissimo quando era giovane. Perché vai vedere il porno? Non stavo facendo vedere, infatti. Basta che guardi, lo vedi? Bella, bella, bella. Allora, stiamo quando ho giovane. A me quando era giovane piaceva tantissimo. Allora, a me quella foto lì mi fa impazzire. Questa? Eh, scusa, ma se non le fai vedere, però... Era bellissima quando era giovane. Ma chi è lei? Come chi è? Non so chi sia. Selen, ma Selen. Ti sei mai fatta una sega in vita tua andrei giovane? Ti devo cercare a te qualche uomo? No, forse l'ho visto nel film di Tinto Brass. Tu che ti ricordi? No, quella è Alicia Coll. Controlla Selen Tinto Brass. Quella è, no, Alicia Coll. Controlla... Non ha fatto nessun film. Non ha fatto nessun film. Com'era? Come si chiama di nome la Coll? Claudia. Claudia, Alice. Prova Selen Tinto Brass. Ma non l'ha mai fatto. Non l'ha mai fatto, però va bene. Andiamo a fare sta strozzata d'Alessio, va. Tutti, tutti? Tutti. Tutti, perché se no non trovo. Vai. Ti piace Selen Tinto Brass? Porno at culonudo.com Tutto Brass. Non esista, Alessio. È un'invenzione tua completamente passata. Miranda era con la Serena Grandi. No, non esiste. Non ha fatto nessun film con... Con la Serena Grandi, Miranda. Allora, allora. Intanto... No, no, no. Io intanto ordino. No, c'è un lavoro che devi fare prima. Ma... Allora, il computer, come al solito, non mi si accende più. Madonna, non parliamo di computer, che ho sette portatili. Stamattina volevo vomitare con... Se fai te la recensione, sì. La video recensione oggi tutto il pomeriggio fino a stasera, sì. No, me lo dai per le feste se rimango senza computer. Ti ho detto, ti ho risposto. Come fai? Quando te lo posso dare? Adesso me lo dai. No, perché devo fare le video recensioni di tutti i portatili. Te faccio due video col cellulare. Sì, è sicuro. Sicuro. Allora. No, Pierpaolo, rischio di essere senza computer durante le vacanze di Natale. Ma non si accende proprio mai più. No, adesso l'ho portato da Biagetti, me l'ha pulito, ho detto che dentro c'erano i topi. L'ha pulito. Ma che cazzo è? Che cos'è? Un tappeto? L'ha pulito. L'ha pulito. Però tendenzialmente era 4-5 mattine. Te l'ho detto che mi partiva la ventola a cannone. Te l'avevo detto che la mattina lo trovavo... Ma no, ma avevi detto che la mattina lo avevi trovato in blocco. Esatto, e tutte le mattine me lo faceva. Non so perché alla notte succedeva. Spegnilo. Perché c'è i gnometti del... Non credo di capire, quando lo riaccendi comunque... Cioè durante la notte comunque si spegneva. Ma non puoi spengelo la notte, scusa. Lo spendo. Allora, che pizza vuoi? Che pizza vuoi? Special crudo? Che pizza, no. Special piccante? No, prendi, prendi. Sernp? Che è qualcosa di buono. Penso sia stracchino, radicchio, noce e parmigiano. Ma è interessante però. Magico Sud? Cioè comunque guarda, sono veramente triste. Eh, che cosa posso prendere? Non c'è niente da prendere a Terni. Guarda, levo pizza. Allora c'è Barta... Allora ti dico i ristoranti dove porti in area a Terni. Barta Bacchi da Filippo. Guarda! Guarda il primo! Guarda! Guarda! Barta Bacchi da Filippo. Però ha delle bellissime foto del palino della rosetta con la mottola. Adesso vi faccio capire. A Terni, a Terni l'ordine su Just Eat. Barta Bacchi da Filippo. Ristorante Ucraino Kozak è il secondo. Ma noi potremmo mangiare Ucraino! Proviamolo! In favore, in onore dell'Ucraina. Proviamolo! Proviamo Ucraino! Pensa che ti può arrivare le bistecche di carne che arrivano qui. Che cosa possono essere? Guarda che dice che i ristoranti Ucraini... Sì, ma... Allora... Allora... A Terni hanno lo specifico a Terni. Perché loro sanno fare business. Le pizze sono chiaramente... Le foto sono tutte storie. Gelateria Gelattolo. 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 Di nuovo Barta Bacchi da Filippo. Ristorante Duomila. Duomila. Guarda! Col sushi! Guarda! Ristorante Duomila! Però fa il sushi! Però il titolo mi fa capire che è ristorante da sushi. Rosticceria I Mori. Rosticceria I Mori. Il ristorante Ucraino di prima. Gully Food. Che in verità fa solo la pasta... Cioè devi comprare la pasta e prendere la cucina. Anzi fa la pasta presa. Certo, sì. Il nuovo pizzone, pizza San Cardeto e pizza Lampo. È finito. Basta. Potevi ordinare dai chef. Io andavo a prendere. Sì, così veniva alle 16. Così venivi dopo domani, Alessio. Quando chiudevamo la live. No! Poi dice no! È a 7 minuti da qua. Quindi ci mettivi 15 minuti. No, perché avrei fatto un giro. Vabbè. Che cosa volete? Pizzeria dell'orologio? Ristorante Ucraino Kozak? Guarda! O sperimentiamo l'Ucraino... Allora, cosa c'è? C'è... Menù bambini lo salto. Per me no. Antipasti. Bruschetta ai spratti. Due fette di puane con spratti e limone. Di puane? Di puane. E gli spratti che sono? Quegli spratti di limone? Pane con caviale... Non lo so, si chiama così. C'è anche cos'è lo spratti. Cos'è lo spratti? Fai internet. Allora, c'è... Non posso guardare. Affettato misto affumicato. Scusate, però vi sto raccontando. No, no, no. Al telefono. Affettato misto affumicato. Io. Bruschetta ai spratti. Ho lasciato il telefono in macchina. Tra l'altro perché ha i spratti e non agli spratti? Perché ha i spratti. Perché spratti è luogo. Regge il verbo lu. Scusa, il verbo. Che è il verbo lu. Il verbo lu. Perché è lu spratto, i spratti. Ah, potrebbe essere. Bruschetta della primavera. Pane con caviale rosso, aringhe con cipolla marinata o bruschetta al tartufo estivo. Non vuoi caviale aringhe? No, primi. Borsch verde, ravioli con patate, ravioli con fegato, tortellini con carne, involtini di verza con ripieno di riso, tortellino fritto sulla salsa di quattro formaggi, minestroni di barbarbietola, borsch, tagliatelle al tartufo estivo, tagliatelle con funghi specchi e pistacchi, penna ragù, crep con funghi specchi. Comunque è un ternano ucraino. Sì, esatto. È un terno ucraino. E' un terno ucraino. Allora. Blandone pizze. Allora prendimi una pizza buona. Infatti ti ho detto. Vi prendo delle pizze. No, prendi la cattiva. Vi prendo della pizza speciale per te? Pizza Ilaria? Salame piccante e stracchino. Penso di essere Ilaria però, scusami. Allora, Ilaria ti ispira. Salame piccante e stracchino. Stracchino, guarda che è una scelta importante. Salutiamo Ilaria di Terno. Pizza Tav? Dai. Cioè alla velocità della... Spinaci, gorgonzola e salsiccia. Perché vai delicissimo al bagno. Può essere. Voglio sta leggero. Voglio sta leggero. Melanzane fritte, salsiccia, gorgonzola e pancetta. Ah, chiaramente sarcastico. Chiaramente certo. Lo spirito ternano. Allora, avanti. Rimpizzati quella sua. Special crudo. Ti piace special crudo? Perché è special? Perché c'ha la glassa di aceto balsamico. Ah, vabbè. Colpo di glassa. La modenese potremmo. Special piccante. Salame piccante, fiocchi di mozzarella, rucola e glassa di aceto balsamico. Poi c'è la Serenep di prima. Ah, io prendo la Serenep. Bella Umbria. Vetti una Serenep per lui. Allora, intanto una Serenep per bebi o normale? Normale. Ok. Scegli uno. Doppio impasto o impasto normale? Impasto normale. Perfetto. Scegli uno. Bicchieri, non bicchieri, non piatti, non posate, piatti, posate. No. No, niente posate. Metto bicchieri. E ti ha dei piatti. Scegli uno. Perché no. Ma poi perché uno? Ah. Ma poi posso scegliere di più. No, c'è il piatto. Prendi il piatto. No, lo mangiamo. C'è arrivare nella scatola. C'è arrivare nella scatola. Non penso che te la portano in mano. Piate sta pizza. Quindi, prendo solo i bicchieri. E niente posate? Allora, però, gli devi dire di tagliarla. C'è extra tagliatemela. Extra tagliata? Extra non ti metto nulla di tutta la roba che ti dà, eh. Allora, metto no posate. Però non posso scegliere no niente. Cioè, o no bicchieri, o no piatti, o no posate. Devi mettere tutto no. Cioè, devo spuntare no, no, no? No, perché se no loro ti riempiono di utensili. Non lo so, metto no posate. È tipo l'Ikea, in realtà. Non è una piccola. Scusate, stiamo ordinando, ragazzi. Dovete essere pazienti. Poi, tu che vuoi? Special patate? Bella Umbria? Come? Leggimene. Allora, special Magico Sud e peperoni a rosso, stracchino e grana di pistacchio. Bella Umbria è funghi porcini, funghi champignon, pacchino e salsiccia. Special patate, stracchino, prosciutto crudo o salame piccante o pancetta. Poi c'è la vegetariana. Special tonno, tonno, carciofini, olivi nere, pacchino e rucola. Sì, prendimi una margherita, grazie. No, dai, che tristezza. Ti prendo special tonno, dai. No, non mi fa cagare. Come ti fa cagare? Non ti piace il tonno? No, tutta quella roba lì sopra non mi piace. Prendilo una speciale. Magico Sud, dai. Peperoni a rosso, stracchino e garella di... Sperine, funghi porcini, champignon, pacchino e salsiccia. Questa qua, bella Umbria. Bella Umbria. Bebio normale? Sempre normale. Doppio impasto o impasto normale? C'è 50 centesimi tra la bebbia normale. Impasto normale o doppio impasto? E poi voglio tutta l'utensileria. Quindi che metto? Voglio i bicchieri, i piatti, le posate. No, metto no posate. Vuoi qualche extra? Ma te ti porta i bicchieri. Voglio vedere. Qualche extra? Maionese? No, non voglio niente, grazie. La birra ce la abbiamo. La birra c'è. Pomodoro a fetta? Vuoi pomodoro a fetta? Oi, pomodoro a fetta? Che vuol dire? A fetta. C'è una fetta? Scusate. Però è incredibile, non vuoi niente. Scegli la pizza perché abbiamo un compito adesso. Perché la premessa è che mi si è scassato il computer. Oggi... Però l'hanno pulito. Oggi... Rispondi a me in chat però. Non mi interessa. C'è una priorità. Mi devi convincere. Dobbiamo fare un paragone di costi tra il Mac M1 e... Vabbè, è uscito ieri in sconto. Però hai visto che sta al 900 e il MacBook Air. No, non voglio le errori. No, allora non c'è neanche bisogno di fare un confronto. No, no, no. Con l'XPS... Ma c'è un'oliva scolana? Sto guardando, adesso guardo. Con l'XPS 15. Con l'XPS 15. Perché stavo guardando sul sito della Dell e alla fine c'è... Se ci metti due cagate diventa 2400 euro. Sì, ma con il 17 pollici? No, il 15. Perché il 15 e non il 17? Perché il 17 è troppo grande. Cioè il 15... Però ci lavori bene. Tu lavori così come un desktop replacement. Ha senso il 17. Noi vai in giro a lavorare. Il mio è il 15 e lavoro benissimo così. Non voglio nient'altro. Beh, facci... Fallo dire a noi. Non lavori. Cioè il concetto di lavorare benissimo così... È sufficiente per vedere bene... Siccome io il computer lo tengo abbastanza vicino, è tipo un IMAX. Io si lo tengo qua sul... Dai, ma come fai? È per quello che si sporca. Mi risucchia i pensieri. Non prendo da bere, eh? No, ci sono le birre. Sei sicuro? Ci sono le birre di Nicolò. Sei sicuro che ce ne sono abbastanza? Sì, ce ne sono 5 o 6. Non è che stanotte le hanno bevute tutte. Vado a controllare. Vado a controllare, per favore. Perché mi dice perché non aggiungi una birra in bottiglia. Mi ha appena consigliato, eh? Quindi se no me sa che è vuota lì, eh? Del pomodoro a fette. Allora, sul 17 vede il pene nei porno troppo grande. Intanto, buongiorno a tutti, ragazzi. Oggi dicevamo un cortolite speciale. Perché saremo qui, chiacchieriamo, ci facciamo un paio d'ore veramente di chiacchiere libere. Ci rivediamo noi stessi. Io non vedo Francesco da un sacco di giorni. Da un mese. È un mese, fra la cazza dell'altra. Dobbiamo cercare di andare la settimana prossima a mangiarci una cosa. Ma magari, sì. Ce ne sono 6, ok. Allora vado al pano. Dovunque tu voglia. Andiamo a mangiarci una cosa veramente. E, ok, Pierpaolo Greco, Net Addiction. Cortolite sembra un'infezione. E' proprio quello l'obiettivo. Cortesemente telefonare. E gli siete già fatti una o due speedy-pippe. Quanti speedy-pippe hai fatto oggi? Zero, oggi zero. È venuto prestissimo. Quindi proprio una speedy-pippa. E non facciamo in tempo a farmi una speedy-pippa. Lasciatevi e gli dico, sai che è tutto ok tra voi. Dici, chi è questo pazzo? Francino Caturnuzzo. Caturnuzzo. Aspetta che non mi ricordo mai per ordinare. E dicevamo, quindi poi non sappiamo quando ritorniamo qui a fare un cortovero, ragazzi. Ve lo diciamo prima perché così non vi infastidite. Perché altrimenti... Logicamente, non alla Befana. Eh, no, esatto. Non alla Befana. Sicuramente dopo. Ma quando scegli quando consegnarti? Alla fine, no? Ma dopo il pagamento? Consegna appena... Questa è una bella domanda. È una bella domanda, infatti. Ah, no, ecco qua. Consegna... Ah, sì, appena possibile. Ok, ok. L'avevo fatto giusto. Perché sono moro? Perché a Pierpaolo gli piace questa illuminazione e da... In realtà non sono fan. È Alessio che piace questa illuminazione. Pramente. Che non si vuole far vedere. Sì, che non gli si vedono le rughe. C'è tutte quelle cose lì. Guarda, siamo rossi e ne... Sì, sì, è proprio brutta questa qua, confermo. Andiamo se riusciamo a pagare. È una scelta stilistica del nostro... Secondo, ragazzi, sto cercando di pagare. Art Director. Però mi puoi togliere se la n è così perché non riesco a pensare ad altro. Sto ordinando e te la tolgo. Non riesco molto a pensare ad altro, soprattutto con questo capello, ragazzi, un po' alla... Ah, perché non si vede. Aspettate, fammi vedere se si può vedere. Un po' alla... Un po' alla... Facciamolo vedere così, così sanno di che parliamo. Questo capello così, con quest'occhio così, con quel naso così. Bello, Dezio. Bello, Dezio. Quanto sei bello e morbido. Ci siamo sentiti. È straordinaria. È straordinaria. Questa bocca così, questi denti così. È 2022, questa foto? No, quando era giovane. Questa quando era giovane. No, 22, c'è 60 anni. Ops, ci sono dei gran piselli. Prima sono passati, speriamo che non si siano visti. 60 anni ha fatto. Minchia, quasi più di me. Aspetta che ho fatto il primo, c'erano dei piselli, spero che non si siano visti. Attenti, qua siamo... Mi fai... Se si sono visti non si è capito. Mi fai il paragone per cortesia. Perché me lo devi comprare tu, il computer. Ancora. Come si accende questo? Come si alza? Quale? Il mio. È il 3, il tuo. Vai. Prova? Ah, molto meglio. Però di base avvicinatelo. Alzalo. Ah, non si può... Allora, allora, di che cosa vuoi parlare? Discutiamo quindi che volevi sapere sul XPS... Sì, ma si allunga. No, non si allunga? 15. Si allunga. Come fa a essere quello più alto? Scusami, eh. Perché è diverso il microfono, c'è un altro pezzo di staffa più alto. Ma no, guarda. Eccolo qua, XPS... Si può alzare? No, non si può alzare. Perché questo è lungo? Perché è diverso il microfono! È diverso il microfono, sì. Ma va bene, ma no! Lo puoi girare un po', però, esatto. Ma sì, ma ti sei affezionato negli ultimi sette minuti. Devo dire che mi trovo bene. Allora. Allora. Che cazzo è qua sotto? Rifiuta tutti. Gli stai facendo vedere, sì. Certo, glielo sto facendo vedere. Ok. Allora, XPS 15, ok. No, gli 5 voglio. Ovviamente almeno gli 7, esatto. Poi voglio almeno 32 giga di RAM. Che ci rifà a 32 giga di RAM? Sono fondamentali per fare la roba che faccio io con la grafica. Ma che cosa fai? Anche per giocare a Dallo 1800. Ti scarico Call of Duty, un'immagine che mi deve tenere 3-4 giga in RAM. Capito? Però vedete, così diventa 2007 perché è meglio la 3050 TIE. Io metterai la 3050 TIE, non 32 giga di RAM. Però la scheda grafica, con Photoshop, con Adobe, con la Switch, non viene sfruttata. Come no, con Adobe, certo, viene sfruttata la grandissima. Posso, può, allora. Se fai rendering video, al 100%. Se fai rendering grafico, sono abbastanza sicuro che ormai Premiere usa la scheda video. Attualmente sarà che con quella mia, la mia 1050, magari non si nota molto. Ma ti posso assicurare che purtroppo funziona male. Comunque 32 giga sono fondamentali. Va bene. Poi 512 ti basta, non metterai un Tera. Non metterai un Tera. No, 512 mi basta perché lavoro su cloud. Display, però, il 1200p o vuoi il 2K? No, non voglio il 2K, voglio il minimo non touchscreen. Esatto. Il primo, il primo va benissimo. Ah, ok. So che cazzo farmene del 4K. 1200, vabbè, perché è un 15 pollici. Io avrei fatto questo. Il problema è che non c'è non touchscreen. Di quanto aumenta, scusa? Guarda la differenza. 3, 2, 3, 3, 3 diventa. Sì, ma rispetto a? A 2, 7. No, perché c'è il touchscreen e quello è il problema. No, me lo tengo così. È anti-abbagliamento comunque. Così se arriva uno dietro che ti sta lampeggiando. Ti posso fare un dito a culo perché non mi può abbagliare. Non ti abbaglia, esatto. Lo puoi mettere sul cruscotto mentre vabbaglia. Ma anche se ti abbagliano dietro. Non mi dà fastidio niente. Esatto. L'esterno lo sceglierei Platinum Silver. Non c'è scelta, non c'è scelta. Sei sicuro? Non ne vuoi un altro? No, no, mi sono sconvinto. Ti va bene questa. Tastiera? Italiana retroiluminata. Chiudi vuoi prendere il Lazer T francese. Il Lazer T francese non ti piace? Ok, basta. Per esempio, quando è che i tastieri ti verranno completamente customizzabili? Cioè, tasti tutti, tra virgolette, meccanici, ma con il display digitale, in modo che una stessa tastiera... Ma ne è uscita una terrificante, ma comunque che ha tutto un display corribile. Quella è senza senso. Però c'ha poi comunque i tasti scritti. Cioè, praticamente ha lo schermo sotto i tasti trasparenti e ci sono... Fanno vedere quei pezzi che passano... Quelle robe inguardabili. Tu invece vorresti uno schermo per ogni tasto? Cioè, ma ci sono, eh? Cioè, lo Stream Deck. Come lo Stream Deck. Come lo Stream Deck. Ammazza, però per ogni tasto da tastiera. Ma quando abbatteranno potentemente i prezzi, abbatteranno, quando abbatteranno... Devono abbattere. Tra l'altro che questo XPS 15 è il nuovo XPS 15. Non lo so, infatti, occhio, eh. Sì, perché è col 12.7, sì, sì. Altrimenti io l'XPS 17 ti stavo guardando. Ah, io prenderei questo senza pensarci un secondo. Per te. È tanto... È troppo grande per tu gusti. No, è vero che... Cioè, questo... Dell ha fatto un ottimo lavoro per la riduzione delle cornici. Perché è grande quanto un 15. Ha le dimensioni di un 15. Infatti il 15 è grande come un 14. Un 14, sì, confermo. Sei sicuro che non vuoi questo? Sono 3.700 euro. Tu lo paga l'azienda? Sì. Allora, questo, guarda, 2007. Ok. Qual è il tuo problema? Devi andare a vedere il MacBook. Sì, l'M1. Però mi devi guardare le offerte, tipo. Ah, perché non lo vuoi... In che senso? Non lo vuoi comprare da... No, perché l'M1, cioè... Ovvio, qua fai la simulazione, ma non ha senso comprarlo qua, perché si trova in offerta su Amazon. Ma tu hai il MacBook Pro, però, no? Sì. Cioè... Il MacBook Pro. Pro. 16. Con M1, che forse non c'è neanche più qua. Eccolo. Con l'M1? Sì, perché non esiste ancora con l'M2. Lo devono ancora annunciare. Scusa. Il 14, no, il 16. 16, ovvio. Perché il 14 è ridicolo. Acquista. Parto da 2.850. Parto, eh. Sì. Per farti capire da l'essere. L'altro come era? 3.200. Quello, no, quello arrivava... Il totto, hai equipaggiato 2.007. Questo parte da 2.850. Allora, ovviamente te lo devi fare... Grigio siderale. Il Pro, questo qui. L'M1 Pro. Eccolo. Il più basso. Il più basso. Con 512 giga, esatto. 16 giga di RAM. Poi naturalmente sceglieremo anche il mio. Il grigio oscuro, voglio, il grigio oscuro. Ok. Eccolo qua. 2.849. Guarda, uguale. Controlla, no, no, controlla, perché manca roba. Manca niente. La RAM? 16 giga. Sì, qua 16 giga li posso anche tenere. No, invece è proprio ridicolo 16 giga. Ma questo parla ciao con l'SSD, no, come l'XPS, che gli fa una telefonata, trova occupato, aspetti che la richiamo. Aveva dato che costa poco la memoria in più, 32 giga. Sono 500 euro che vuoi che siano. Però la posso comprare dopo, me ne sbatto il cazzo. No, perché è tutto saldato, sul MacBook Pro non puoi fare niente. Adesso, sei sicuro che... A 100% è saldato su scheda madre. È vero, adesso sei con la memoria. Quindi è questo qua, 3.309 euro. Mi va bene 16 giga. Adesso va bene 16 giga. No! 16 giga è pochissimo sul MacBook Pro. Cioè, prima era indispensabile. No, è il contrario. C'ha un accesso all'hard disk che è completamente diverso. Apple la gestisce la memoria in più. Windows no, e questa è la grande differenza. Cioè, se li metti 32 giga... Sì, ma con 32 giga te li usa veramente? Cioè, invece Windows potevi non metterli... Vabbè, 32 giga, tanto pagare? 3.309 euro. E poi aspetta, non c'è nient'altro. Basta, no, l'SSD non mi interessa, l'SSD non mi interessa, l'SSD non mi interessa. No, e ti vuoi comprare, no? L'impirato tutti. Fine. Ti danno tre mesi gratis di Apple TV Press. Te lo passo. Grazie. Con tre asterischi, però con tre asterischi, quindi chissà il caso sassi tre asterischi. Per tre asterischi. Fatti, c'è da cercare. 6,99 al mese dopo la prova gratuita. E questo è ancora poco. Hai visto Disney? Un miliardo e mezzo ha perso, sta perdendo con Disney Press. L'ho mandato a casa Ciappè, Ciappè, Ciappè. Ma è incredibile che abbiano rimesso l'Ill. Bob Iger, però Bob Iger è quello che poteva solo... Era l'unico che poteva rassicurare gli investitori. Perché è quello che si è comprato Marvel, Pixar... Tutti quanti infatti dicono di mettere 32 giga, vedi, dice uno. Va bene. Ecco, 3.300 euro. Ora, vai su Amazon la stessa configurazione? Non credo che su Amazon ci sia... Sì, 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 me li manda sempre... Eh, me li manda sempre... Come cazzo si chiama? Chi? Jacopo. Jacopo di lavoro mi manda le offerte del MacBook Pro. MacBook Pro... Non so perché. E non me le manda neanche tracciate in modo che ci possa guadagnare. Proprio così, è matto. È vero, ogni tanto anche a me mi dice... Però senza tracciamento controllato, mi prenderà per il culo, invece no. Questo quant'è? Guarda, lo scontone. Sono tutti 16? È 2007, vedi? Eh, vabbè, guarda quella, è da 16. Guarda, ti metto MacBook Pro, 16, 32 giga. Eh, vedete, costerà 3.300. Oh, 4.000! No, ma quello era, quello? Non ci sta. 2.300 però, non è quello. No, perché questo è comunque è 16 giga, comunque. Non te lo trovano, quindi non ce l'è. Eccolo, no. Cioè, 4.000 euro mi sembra un po' eccessivo. È perché è l'M1 Max. Sì, è col Max, no, sono tutti col Max, anche questo è col Max. No, questo è l'M1. È col Pro, hai ragione, no, è col Pro, questo, giusto. 2.30 in più col Max. Eh... Nel Max non so che cazzo farmene. Non ci fai niente, che so, te aumenta il 24 core di GP, ma che cazzo ci fai? Sì, sì, infatti. 3.309. E passa la paura. Comunque per restituire con calma, fino a 20 gennaio. No, ma aspetta, ma comunque questo qua, questa configurazione qua, si trova spesso in offerta. Me ne ha mandati Jacopo il 2004. Ti confondi? Chiamai Jacopo. Ti ho bisogno di chiamare Jacopo, ti confondi. Ti garantisco che il MacBook Pro, il 32 giga di RAM, non va mai in offerta. Probabilmente Jacopo ti ha mandato il 16 giga di RAM che andava in offerta. I BTO, come si chiamano, cioè quelli lì che sono le modifiche alle versioni base, non vanno mai in offerta. Perché non esistono. No, perché non è che ne producono 10 in più speciali e te li mettono in offerta. Perché quella base è quella che fanno di massa. Quella base la fanno a cannone, esatto. È come il MacBook Air, infatti lo volevo far prendere a mia moglie, c'è un'offerta su Amazon, se cercate su multiplayer, non so se è finita. 949 il MacBook Air, invece di 1.400, costa 1.380. Ed è comunque, per l'uso che fa mia moglie, che è proprio, cioè posta, navigazione, è. Perfetto. Perfetto. Cioè ti dura 10 anni? Ma quanti pollici? 15. No, il 14. Il MacBook Air è standard. Considera che mia moglie c'è il MacBook Air, quello che gli avevo regalato io, sono andato a vedere, ha 8 anni. Ed è ancora... Funziona perfettamente. Adesso è arrivato proprio... È semplicemente... È arrivato di super cottura, però funziona da Dio, cioè non gli si può dire. Sì, l'Air M1, 949, certo ragazzi, l'Air M1 perché consiglio che continui a dare ogni volta. Non comprate l'Air M2, è veramente una roba senza senso. Sì, è sempre il 16 giga. È sbagliatissimo perché la versione base ha l'SSD che va peggio, la versione base, e la differenza prestazionale non è percepibile, ma costa 500 euro di più. Sì, 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 sì. Ma come mai hanno fatto il nido? Perché no, 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 perché non mi tira il camino. Ma non ti dà il nido? Non ti tira più il cazzo? Non mi tira più il camino. Non ti tira più il cazzo? Perché è otturata la canna fumaria. Non ne ho la più pallida. Ebbè, se non ti dà il camino è quello. Sì, ma comunque non è una... Magari c'è una cicogna che ha fatto... No, devo chiamare quello che mi ha pulito il computer. Quindi dicevi... Perché pulisce tutto il cammino? Fa cammini il computer. Bravo! E non è male, veramente. Lui pulisce, cioè, quello che c'è da pulire... Quindi abbiamo deciso, su che ti devo consigliare? Cioè, veramente io ti devo discutere fra questi 700 euro risparmiati... No, 600 euro risparmiati... Cioè, che ci viene mezzo computer mio? Cioè, 600 euro risparmiati, con la differenza che qui hai un computer, lì hai una roba per fighetti. Cioè, questa è una roba per fighetti. Questa cosa qua mi svolta la vita. Questa roba qui è roba per fighetti e non ci fa in cazzo. Questo mi svolta la vita. Zero. Tu pensi che scopi di più. Il problema è che con questo qua non giocherò mai più o nulla. Questo qua non fai niente. Non fai streaming, non fai nulla. Streaming lo fai, ce l'hai tu sola sta paranoia. OBS per il Mac. Ma poi bene, tra l'altro, eh. Cioè, se tu apri OBS c'è scritto Better with the Mac. Cosa devo streamare, visto che non posso giocare? Per qualsiasi cosa. A parte hai ragione, non puoi streamare nulla. Quindi hai deciso? No, perché il problema... Altrimenti, mi ha un consiglio. Fatti gli Zenbook quelli nuovi, gli Zenbook quelli OLED, che quelli sono incredibili. I ProArt, mi sembra, si chiamino. Guarda che sono delle grandi macchine, eh. Però, però, sull'XPS devo dire che... Hai la certezza della qualità. Esatto, tranne il mio, l'unico che ho comprato fallato, fallato. Allora, gli Zenbook, adesso ti dico quali sono. Eccolo questo qui. Però questo costa un milione, quindi questo qua non. La serie è lo Zenbook. C'è tipo la tavoletta grafica. No, quello che si solleva la tastiera è acqua sotto. Questo è preso, c'ha pure la dial, compatibile con Premiere. La lavagna. Perché in pratica c'ha il trackpad. Il trackpad che se tu vuoi, spingendo un tasto, ti proietta e ti diventa il tasterino numerico. Altrimenti è un trackpad. Non fa cagare, è bellissimo computer. Guarda, questo è un gran computer, eh. Ho capito, non ti interessa perché non capisci il cazzo. Però è un gran computer. Eh, cioè, perché devi di... Se non mi interessa, ecco, lo Zenbook Pro. Questo qua. Che però mi si accosta una sassata, se non mi ricordo male. Quanto sta. Che è il Pro, non il Duo... Il Pro 4. Chi ha riportato i RIDAIL, sono i migliori? No, ti sta facendo vedere un'altra. No, anche gli Zenbook Pro, questi qui sono... Ah, tu c'è qualcosa di sassato? Eccolo, lo Zenbook Pro. No, scusami. Guarda che stai con un'offertona quello. Questo qua non è male, infatti sto guardando questo, eh. Con Ryzen 9, perché è la serie 5000 del Ryzen. Questo non è male, eh. Questo non è male, questo qui, eh. Non è affatto male, questo qua. Peccato solo che abbia il Ryzen 5000 e non i 6000. Però sono comunque ottimissimi i processori. Guarda, questi qua, non il Duo. Non voglio mettere il Duo, voglio i normali. Zenbook Pro. Tu vuoi un computer normale? Io, è veramente difficile. È questo, guarda, è per forza questo. Il Pro 16, perché vede l'unico. Pro Duo... È tipo la macchina, capisci? Cioè, tu lo compri, se hai fatto una cazzata... Sei costretto a portartelo avanti cinque anni. Ah, sì, sì. Questo è quello che ti devi fare. È bruttissimo per me comprare questa roba qua. Fine è questo, eh. Per forza questo, che però costa una sassata. Tipo? Eh, voglio vedere. Manco se trova, ne manco te lo danno come acquisto. Potrebbe non essere uscito. 32 giga. Potrebbe essere non disponibile. Questa è la bomba a mano. C'è l'I9, c'è la 3060. Guarda lì. C'è questa Daya che è bellissima da usare, è super comoda. Eh, però non ci sta dove comprarlo, non c'è. Acquistalo su, non c'è. Vedete voi, acquistalo, vado tutto su. Magari non esiste. Forse ancora non è arrivato. Vorrebbe essere che ancora non è arrivato. Bello e bello. È strano. Eh, boh. No, i ThinkPad non sono super fan. Alessio Pagliò li odiano, li odia a livelli di design. ThinkPad proprio non li sopporta. Questo è molto bello. Hai presente che c'è quel grillettino, c'è il clitoride, c'è il clitoride. Niente, perché l'unico che vedo che ti danno è questo qui, è il Pro 15, che però il Pro 15 è quello che c'ha, secondo me la serie, ah no, 5.900 però. Questo qua però è un gran compito, questo qua è buono, eh, l'eh. Vedo col 5.900, che non puoi cambiare la RAM purtroppo, vedi, sei obbligato. Questo tu ti danno a presso però, eh. Questo caporoso. Prendo il 15 o il 17? Del Dell? Se troppa l'azienda è il 17. Non ci farei neanche una riflessione sopra. se tu lo paghi all'azienda. Ho paura che sia veramente un mattone, eh. Non l'hai mai visto dal vivo? No, il 17 no. Beh, comunque il 17 sono pure un po' pesantucce, eh. Poi quello lì è raffreddato anche con un sistema diverso, se mi ricordo. Sì, ha il raffreddamento quello nuovo con la camera a vapore nuovo. È una bomba sulla carta. Il problema è che è anche una bomba da portare in giro. Ci sta nello zaino? No, nel tuo zaino secondo me no. Ma ci stanno le dimensioni, no? Siamo andando a vedere le dimensioni, scusa, così lo vedi subito. Lo confronti col tuo pisello, quindi lo facciamo abbastanza veloce. Ecco, il mio pisello sono tipo 2,5. Allora, guarda, te lo dice subito. Andiamo a vedere. È il nuovo XPS, beh, che è uguale poi. Comunque dovrebbe darti le dimensioni in fondo. Dimensioni? Eccole. Peso 2,5 kg. Allora, larghezza è 37 cm per 24. Non vuol dire peso massimo e peso minimo. Cioè, secondo se ha mangiato, dopo pranzo... Non lo so, effettivamente. Con o senza batteria. Ma no, perché dovresti levare? Non puoi toglierla la batteria. Perché mi dovrebbero dare il peso senza batteria se tanto non posso togliere la batteria? No, non vorrei che magari ti considerano anche l'alimentatore. Esatto. Magari ti contano anche l'alimentatore. Comunque... L'alimentatore lo sai, è più grosso probabilmente di quello che... 37 per 25. Quindi? Scusa, quant'è il Rodcaster Pro? Guarda che cosa difficilissima. Quando... Dimensioni, scrivi dimensioni. Eccolo, guarda, guarda, eccolo, eccolo. 41. Non può essere più piccolo di questo. Eh sì, sì, aspetta. Cliccato. Non può essere più piccolo di questo. Ma guarda che cos'è, scusa. Oh, aspetta, c'è scritto, eh. Mica testo di io, la cazzata. No, però non può essere. Cioè, che rompi i coglioni. Eccolo qua. 35 per 27. Quanto era? Quello era? 35 per 27 contro... 30... Meno profondo, quindi è meno profondo di questo, perché quello è 24 e leggermente più largo. Beh, mica è tanto. Meno profondo. Ma non è alto così, ovviamente. Non è buono. È come un 15, eh. Bello. Però due chili e mezzo, ricordatelo. Sì, ma tanto... Vabbè, tanto lo è... Guarda che ci lavora mentre lo tiene in mano. Eh, guarda, no, se lo tiene sul petto. Se lo tiene sul petto. Poi non respira. Ah, vada, l'ha trovato Dottor Felix, ha trovato lo Zenbook Pro 16 OLED che costa 2300 euro. Quello risparmi ulteriormente. Però mi sa che è con 16 giga quello che ha trovato Dottor Felix. Comunque io prenderei il 17 se tu lo paga l'azienda, che costa 3700 euro. Che glielo dici tu. No, ma che glielo dici te, è buon divertimento. Tra l'altro con 16 giga, con 32 costa 3000... Vabbè, 3900, nemmeno troppo. Pensavo molto di più. Quanto è l'aumento? 200 euro. La metà dell'Apple. Esatto. 200 euro. Tanto questo viene con un tera. Forse... Costa di più se lo metti più piccolo. Cosa stai facendo? Costa di più, costa. Però questo è 4K touchscreen, il 17. Vabbè, puoi monitorarti un adesivo che ho scritto non toccare. Ma allora scusami. Allora conviene il 15 con l'I9? Però con l'I9 ma che ci devi fare? Di base quando fai montaggio e ti torna buono lì. Secondo me non ci fai un cazzo. Arrivi a 3000, però secondo me non ci fai niente con l'I9. Secondo me non ci fai niente con l'I9. Secondo me ti basta l'I7. Lo mandi a Minincia e gli dici che lo prendi per Alessio. Ma perché glielo devo mandare io? Ma mandaglielo te. Perché glielo devo mandare? No, perché non voglio sbagliare. Gli mandi la configurazione. Vabbè, poi glielo mandano adesso che non ha molto senso. Allora. Quindi ragazzi vi vedrete con un XPS 15. Sono molto infastiditi che dicono non c'è niente di più interessante di cui parlare. Beh, scusate. Qui si sta parlando della mia vita streaming pornografica. Io te l'ho girato il computer tra l'altro. Sì, ho capito il cazzo. Ho capito. 4500 euro. 3200 euro. 3200 in offerta che invece di 4200 era 1000 euro di sconto. No, ma me lo voglio fare pezzo per pezzo. Allora già è diverso. Infatti ti ho detto, io come ti ho disordi, ho detto, se non vuoi romperti e assemblarlo, questo era un Corsair One con, mi pare, la 3080 Tai. Cazzo, bello, bello. L'innove della nonna, comunque 3200 euro, tutto ha sembrato completo, comunque Corsair. Cazzo te ne frega. Cioè Corsair gli avevo girato. Perché non lo paghi, eh. No, però non te ne accorgi di base quanti soldi buttate. Voi buttate via soldi in continuazione. Ma quando? Ma sempre comprate stronzate. Vai girare l'economia, vai. Allora diciamo un po' che cosa, i regali di Natale, dai, visto che siamo in ambiente Natale. E Alessio, che regali di Natale hai comprato? No, io non faccio regali, c'è una bellissima abitudine nella mia famiglia e l'unico regalo che ho ricevuto sono 5000 euro. Ma perché provate e ti regala i soldi che hai 50 anni e sei ricco? Infatti gli ho detto non so cosa farmene mamma, eh facciamo piacere. Ma c'hai detto? Avevo piacere. Perché ti regala dei soldi? Cioè, lo sa tu amare che sei ricco? Sì, infatti gli ho detto non mi servono a niente, ma ma grazie, però non so che cazzo farmene. Incredibile, veramente è una roba completamente senza senso. Potevi fare l'abbonamento al canale. Scusa, potevi comprare, abbonati tutto l'anno a tutte le piattaforme streaming. Non è possibile, io preferisco non avere i soldi. Io voglio, sono diogene. Ma devi far girare il denaro. Non mi interroi a non far girare niente, io voglio che il denaro confluisca su di me. Ma non ti serve, po'. Comunque, se non ci fai un cazzo e vuoi fare un inoltre 2525, a me va bene. Guarda che io ho un vero. Io pure, eh. Quindi a te il corsaire, quello che ti rimane del corsaire, quanto ti rimane? No, secondo me li posso aggiungere. Cioè tu mi dai 25 e resto la giugno io. E lui si mette 600 euro sulla differenza. Quindi facciamo i cazzo. Allora controllate sotto l'albero. Va bene. Che poi hai visto, no? Il tizio del Qatar Gate, cosa ha detto? No. Ha detto, perché ho fatto questo per dei soldi di cui non avevo bisogno. Ah, di cui non avevo bisogno, era bellissima quella cosa. Ah, pure di... Esatto. Il marito della Kaila Minogue. Cioè dice, era già ricchissimo? Come Kaila Minogue? No, no, sono le strozzate che dice lui. Era come si chiamava Kaila. Sì, vabbè, la vicepresidente che era. Esatto, forse davvero. No, no, no. E' una bellissima frase. Ho fatto tutto. Proprio una missione di... Cioè, era triste secondo me. Di scienze. Lo ascolti e proprio... Cioè, perché il tipo che dice, come dice. Perché mi sono rovinato la carriera. La vita, la carriera, la vita lavorativa. Il nome per dei soldi di cui non avevo bisogno. Eh, beh, però... Eh, ma è quello. Cioè, nel senso che stavo già bene. Eh, beh, però perché l'ha fatto. Perché l'ha fatto? Il denaro, la gente come voi... No, guarda, sbagli, sbagli a indicare bene. Perché sono il meno irritito. Quanto è falsa la cosa che la ricchezza ti tiene alla larga da queste cose qui. Esattamente, ti soddisfa, vero. Anzi. È incredibile. Comunque, finalmente, di 5 mila euro compra di pc. Invece di pesare sull'azienda. Bravo. No, no. Scusami. Anzi, uno strumento di lavoro mi deve essere fornito dall'azienda. Per te non è di lavoro per te. Mi deve essere fornito dall'azienda. È poco. Eh, appunto. Poco lavoro. Sai che Vincenzo mi ha chiesto di fare gli artwork per... Le mali medaglie, ne abbiamo già parlato. No, per tutto. Mi ha richiesto di fare gli artwork. Ho avuto una grande litigata ieri con Vincenzo. Gli ho detto che voglio il budget, 200 euro. Che schifo, vabbè, però fai vomita. Però questo è sbagliato, perché sei l'unico che non prende budget. Cioè, perché multiplayer si e sulle altre testate no? Infatti lo farei anche dopo. Dopo blocco movie player e dico se vuoi altri 200 euro. Ah, bene. Senti, però non funziona più il pre-live, quello generico. Eh, ha detto che non funziona più la sigla che hai fatto. Il sistema di gestione delle sigle. Dipende se è quello nuovo, quello vecchio, purtroppo. Quello con i frattali classico. Quello che compare quando non metti... Ti dicono giustamente... Scusami, un primo rispondi. Lo strumento di lavoro è la schiena della sedia. Se è uno strumento di lavoro lo lasci in ufficio, quindi. Il DCERROR 404. Non vengo in ufficio, ragazzi. Io ho un portatile per lavorare da casa. Io sono smart, al contrario di voi, che siete coglions. Comunque dico, l'ammissione di colpa per riduzione della pena, hanno detto. Perché se fai quell'ammissione di colpa ti riducono la pena. Ah, dici? Eh, questo dicono. Ma che cosa cazzo vuol dire? Che invece di dire niente, se dice, eh, non li volevo, mandaggio mi sono rovinato, ah, domani te c'è una riduzione della pena. L'ammissione della colpa non ha anche... Sì, che dice, effettivamente ho preso i soldi. Fammi finire. L'ammissione della colpa non è che implica anche una riflessione morale sulla colpa. Ah, no, certo. Tu puoi dire... Mi dispiace, punto. Sì, ho preso i soldi. Questa c'è una domanda molto bella del giovane Old, che dice, una curiosità, ma Alessio è mai stato... Sono toccicciotto, ma si sente molto? Sì, si, fai puzzi tantissimo, della brace, dell'arrossicino. Non dire mai puzzare. Puzzi. Sì, ma non dire puzzi. Perché è un profumo. L'odore del camino. Ho capito. Non è un buon odore. No, la puzza, inizialmente, è roba tossica. No, è una cosa non piacevole. Non è vero, è qualcosa che deriva dagli scarpi. Guarda, lì vicino da me, alla Niene, ci sta un gruppo di slavi che ha occupato un casale. E fanno una vita russa. E ti ricordo, Alessio, è lo stesso identità. Allora, una curiosità, ma Alessio è mai stato sposato? Lo chiedo perché, soldi a parte, ogni giorno che passa credo che farò la sua stessa fine. Ci pensavo stanotte, sento una certa affinità che non mi dispiace affatto. Bravo. Sono curioso di sapere se sto percorrendo in qualche modo la sua stessa strada. Faccio pure lo stesso lavoro in qualche modo. Ne approfitto per darvi il buongiorno. Ma secondo te perché lui è già stato sposato? Si vede che lui è depresso perché starà pagando degli alimenti da merda. Ha una che gli sta sul cazzo. Comunque, come dicono tutti, il fumo del camino è tossico. Quindi si può dire che puzzi. Comunque puzzi di soldi. Scusami, allora rispondi al tipo. Sei mai stato sposato? No. Che io sappia, no. Sei pentito di non esserti mai sposato. A parte per la questione della visa di quella là, non sono mai stato sposato. Cioè, quando hai fatto... Non sono della visa di quella là? Quella che doveva avere la cittadinanza italiana. Ah, vabbè, sì. Però non ti sei sposato poi alla fine. E invece, un pochino sì, però rimane fermo. Però non lo considererei un matrimonio perché, cioè, è pura burocratia. Si faceva pagare per fare del bisturito italiano. Esatto. Però devi rimanere sposato per tre anni. Quindi però sei stato sposato. Non direi così. Burocraticamente sì, però il matrimonio se qualcuno lo vuole... Si vuole dare un'attenzione, gliela dà morale... A chi devo chiedere per entrare in questo giro? Non ti preoccupare, se ti interessa. Perché l'Adel è qui... Ottimo, 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 ottimo. Dice Spidi Pippa che siete stati sposati per nove mesi? Eh, sotto l'anno non li considero neanche quelli matrimoni. Ah, è giusto. Ma che nazionalità? Era brasiliana. 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 Sì, brasiliano in realtà. Brasiliano. In realtà brasiliana. Cioè, nel senso che prima era brasiliano. È in difficoltà. Sì, perché c'è stata una transizione. Allora, ti dicono che è un reato. Perché è un reato? Infatti... Era amore. Sto parlando qui fra di noi, cioè non è... Ma era amore poi. E poi esatto. E poi siamo... Cioè, abbiamo rispettato... Volevo vedere se ci stava allora, no. L'amore ha mille forme. Poi dopo, se dopo tre anni l'amore sparì, svanisce, uno si separa. Volevo che commentassi questo. Alla Greta Beccaglia. Ma che me l'avevi già... Un anno e sei mesi. Un anno e sei mesi. Un anno e sei mesi. Ma non è un po' tanto un anno e sei mesi? Valutare così le pene, calcolando che un anno e sei mesi... Non fa cosa, eh? Non fa galera. Non fa niente. Fa... Comunque un anno e sei mesi. Ma ne ha... Sì, un anno e sei mesi deve andare a un corso. Sì, però comunque un anno e sei mesi non ti sembra un po' tanto. Purtroppo tu hai delle valutazioni e cazzo di cane totalmente personali da uomo della strada. In realtà bisognerebbe andare a vedere la legislazione, le pene e la fattispecie in cui è stato ricondotto il reato. E allora dici... Come violenza. Come violenza. No, mi sa violenza proprio, no molestia. Mi sa proprio come violenza alla fine. Quindi magari è poco, perché magari è l'entry level della violenza. L'entry level della violenza. Sì, perché sembra che lui gliel'abbia dato comunque bello sostenuto, eh. Cioè non era una palpata, era uno schiaffo. Guarda, si vede. Non è una palpata, è uno schiaffo. Sì, ma è comunque una violazione. Ah, la richiesta iniziale erano cinque anni. Più quanti, mi pare, cinquemila euro. Cioè nel senso, secondo te, allora mettiamolo in un altro modo, secondo te se io sto facendo un servizio... Anche se non stai facendo un servizio. Se per la sua ti fai cazzo di... E mi tira una pacca sul culo una donna. Secondo te, se io se l'accuso, riesco a beccare un anno e sei mesi? C'è un precedente. C'è un precedente. Boh, c'è un precedente. Non lo so. Che poi hai visto il successo, no? No, ma per esempio in televisione. Maraveniere. Maraveniere che ha toccato il culo di uno in cose e non ci sono state conseguenze di nessun tipo. Come? No, scusami. Ma hai presente in televisione che l'ultima volta hanno cacciato... Com'è che si chiama? Il vecchio di merda? A quello bavoso? Il cantante. Remo Remigi. Il meo Remigi. Però perdonami, cioè siamo comunque in live il vecchio di merda bavoso. Eh, perché è bavoso, perché fa schifo. Cioè, vabbè, però... Che cosa senza senso il vecchio di merda bavoso? Sì, perché ha fatto una roba che fa schifo come ha fatto questo cuore. Vabbè, insomma... Cioè, comunque non vai in giro a dare le pacche sul culo alla gente. E lui è stato cacciato dall'alai... Il pizzicotto gli ha dato. Maraveniere, se tu cerchi, Maraveniere palpata di culo, c'era un ballerino, non mi ricordo se il cazzo fosse, e lei, in piedi di provare il genere, gli fa popi popi nel culo e non c'è stata nessuna cosa. Eh, fa schifo sta cosa. E infatti, infatti, dal mio punto di vista... Fa vomitare. Ma no, secondo me è giusto così. No, per me fa vomitare. Ma è molto meglio noi che non ci arrabbiamo. Sì, aspetta, esatto. Esiste una cosa per me. Che al Pia Valerino si è piaciuto? No, esatto. Esiste la possibilità per me. Magari è terrorizzato perché ha paolo di non lavorare più se denuncia a Maraveniere. Ancora più schifo. Resta il fatto che è lui l'unico deputato. Non è che si può procedere d'ufficio per le palpate di culo. Diventa un po' un casino. Cioè, già l'Italia è l'orlo del baratro a livello giudiziale. Saluto a Metellone, intanto. Ciao a Metellone. E Memore Migi. E Memore Migi che ci guarda sempre. Tra l'altro è un bellissimo nome e cognome, Memore Migi. È molto bello. Non è un nom de plume anche quello. Secondo me no, secondo me è vero. Controlla, controlla. Memore Migi, secondo me non si ama a Memo. No, cerca vecchio bavoso. Memore Migi. Wikipedia, Wikipedia, cantautore oltretutto. Chissà che signore fa. Non so che canzone è. Tradutto dall'inglese. Perché Wikipedia è inglese, infatti? Born in her back. Vabbè, Emidio Remigi. È ancora più strano il nome vero. Emidio Remigi. Emidio Remigi. E non puoi farlo, aveva detto la donna. Vabbè, mazza. Buongiorno, sono il maresciallo Locasciullo del centro matrimonio fraudolenti. Gentilmente le chiedo di rendersi disponibile ad un incontro nel pomeriggio per discutere di questa informazione che ha dato durante questa live. È inutile che le ricordi che rendersi irreperibile potrebbe solo peggiorare la sua situazione. Distinti saluti, maresciallo Locasciullo di Cicicroma. Cicicroma. Mi fa molto ridere perché il maresciallo che ti invita ad un controllo del genere è Distinti saluti. Esatto. Ma guarda che secondo me è un fake. Come si chiamava il titolo? Potrebbe essere. Come si chiamava il titolo del sito dell'altra volta? Un ricatto è blackmailing. Come si chiamava il sito dell'altra volta? Webbo. No, 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 quello lì. Andiamo a leggere oggi linea diretta. Ma allora, è incredibile sta cosa qui. Ma scusate, ma... È morto papi. Chi è arrivato anche a te? L'ho visto poi. Guarda, guarda, quella è incredibile. Quello là è per l'ultima... No, com'era? È l'ultima... Blocca, 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 blocca. Non voglio vedere queste robe. Tu devi usare degli strumenti. Allora. Guarda che... Eccola qui. La Maravenier, l'aspra malattia, ha colpito anche lei. È successo in queste ore. Ecco come sta. Ma questi chi sono? L'aspra malattia. Ma chi sono? Sarà, sarà... Che ne so? Che sa? Se è schizzata, se è schizzata al limone nell'olio. Esatto. Questo è incredibile. Ma chi sono? Fuori... Oh, Veronica Gentili l'ho incontrato. Struccate senza luci della TV e realmente così spunta il raro scatto. Lo vuoi dare a vedere? Come può essere così? Andiamo a vedere il raro scatto? Il raro scatto. Ecco, sì, com'è? Ho cliccato, non va avanti il raro scatto. Copri le promozioni. Come faccio? Chiudi. Perché non ti fidi. No, no. Il raro scatto. Andiamo a vedere il raro scatto. Ma non c'è il raro scatto. Ah, è così davvero? Ecco. Ma il naturale, veramente così? Comunque, lei, come donna, non mi piace. L'ho incontrata dal vivo. Ed è più bella? Molto più bella. Addirittura molto? Molto più bella. E io l'ho guardata. E lei ha guardato. E io l'ho riguardata. E lei ha scappato da via. Ricordate Ducatino, Francesco Saverio Nozzolino. Tu ricordi che si fa? Stefano! Ecco oggi come si è ridotto. Vogliamo andare a vedere? Come si sarà ridotto. Vediamo un po' come si è ridotto oggi. È uguale. Mario è diventato magrissimo. No. Eh, guarda. Ah, no. Ecco come si è ridotto oggi. No, non è questa, dai. Sì, Nozzolino oggi. Ma è più vero. Cioè, era più in linea con quel... Eccolo! È diventato coso, Bacchi. Bacchi. Ancora meglio sopra il gallo. Questo è come si è ridotto oggi. Ma scusami, perché non le assumi tu queste cose? Guarda che sono incredibili, sono incredibili. Per me è incredibile. Ti piacerebbe gestirlo. Fa schifo. Fuori immediatamente. Luciana Litizzetto, il risveglio è una tragedia. Ci hanno provato fino all'ultimo, ma non c'è stato nulla da fare. Ti immagini quello, no? Col guanto. Cioè, ma io mi chiedo. Ma per me dovrebbe essere criminale. Guardi SimilarWeb se compare in linea 24. Per me dovrebbe essere criminale. Guardi SimilarWeb. No, non comparirà mai. Prova, prova. L'hai copiato il dominio? No, linea 24 si chiama. Ma a te piace scrivere. Certo. Registra SimilarWeb.com perché punto it. Andiamo a vedere. Linea diretta 24. Però è pure vero che seppure fa dei numeri, sono dei numeri di gente che non torna. No, infatti non fa numeri, guardi. Ma poi non torna. Numeri inesistenti. C'è anche un calo. Certo, che quello ormai ti danneggia Google a fare quella roba lì. C'è un calo. C'è un calo, c'è un calo. Sei super danneggiato da Google a fare questa schifezza. C'è un calo, ragazzi. Eppure. Dovrebbe essere, sì, anche per me dovrebbe essere illegale questa roba qui. Cioè dovrebbe intervenire lo Stato. Si è girato, ma a Letizietto che cosa è successo? Sei dubbioso, eh? Sì, è così. Aspetta, prima ti faccio leggere anche il sottotitolo, perché solitamente anche il sottotitolo è violentissimo. Aspetta, guarda, eh. Luciano Letizietto e il brusco risveglio. Questa volta purtroppo non ce l'ha fatta nel suo obiettivo. E qual era? Invegliarsi. Adesso c'è. È tornato a letto. Si è girato, è tornato a letto. Mi fa un po' paura correre tanti rischi per avere una faccia che non è più la tua. La morte non la freghi neanche col botulino. Curare il proprio look è sano. Ma di che cosa si sta parlando? Cerca l'argomento. Ecco, nel brusco risveglio. Guarda la faccia del brusco risveglio. Questa volta è toccato proprio a Lucianina che ha dovuto affrontare un brusco risveglio per quanto riguarda lo Cher. Perché era tornato a dormire e si è risvegliata con il brusco. Cioè, comunque, guarda che è incredibile. C'è del genio. C'è dell'arte e del mestiere. E comunque poi ci vai. Non puoi resistere. Non puoi resistere. Non puoi resistere. Quanto era bella Raffaella figo. Prima che si facesse tutto. Come la ex moglie di Corona. Mamma mia, quant'era bella. Nina Morich. Quando era normale era bellissima. Adesso sembra Michael Jackson incrociata con Crudelia Damon. Tremendo. Vabbè, niente. Abbiamo finito? Vogliamo discutere di cose serie? Signore, quant'era bella Alessi prima che si facesse. Scusami, guardi la progressione della mia vita. Le 13.10. Che ore sono? 12.54. Sei sicuro? Magari sono in anticipo. Che vuoi dire? Ciao, volevo informarti che ho quasi finito De Callisto Protocol preso, usato il 17 dicembre. Anzi, 13.10, 13.30. Ah no, perché De Sikira fa una vita tremenda. Lui prende i giochi, però cerca di finirli in tempo per riconsegnarli. Ah, che quando hanno ancora valore. Quando hanno ancora valore, ha senso. Però non è una bella vita, secondo me. E quindi, però, nel caso specifico, lui l'ha preso usato il 17 dicembre. L'ha preso già usato? Esatto. Ah, questo è molto buono, questo è molto buono. Cioè, giochi nuovi. Però capito, lo deve riportare subito. Ed è logico che a quel punto puoi giocare soltanto dei giochi che hanno un inizio e una fine. Potrebbe fare il redattore. Potrebbe, ma no. Ecco, guarda qua, guarda qua. Vedi, ecco, subito quello che dicevo io. Tancredi Palmeri, il giornalista moltestato in diretta. Ora che si fa, si parla di violenza? Vedi? Quello che dico sempre. Cosa è successo? La ragazza gli palpa il sedere. Perché in questo caso non è partita la cosa? Perché non è partita la cosa? Anzi, no, lui l'ha richiamata. L'ha pure richiamata. E lei, anzi, si è pure messa a ridere divertita e se n'è andata. No, perché lui ha detto, come here, touch my ass, e lei l'ha denunciato. Eh, perché questa... No, vabbè, lui è contentissimo, eh. Ma era contentissimo per i cazzi suoi o perché gli ha toccato il culo? Dopo, quando gli tocca il culo, è proprio super mega felice. Fa pure la faccia infastidita. Guarda, vieni, vieni, vieni. Cioè, ti sembra una cosa normale? Allora, qua dico, ti sembra una cosa normale? Guardala. E lei chi è? Una tizia, un aggi in giro, che va in giro. Una support. Cioè, ti sembra una cosa normale? Vabbè, te e Alessio, ti capirà una cosa. Alessio, la spegnete tutto. Un pugno sulla camera. E una capocciata a lei. Pensa, Alessio, qua in mezzo con loro due, con le cose... Dici, raccontaci te che facevi. Denunciavo. Denunciavo. No, voglio sapere che facevi. Minacciavo, denuncia. Però... Minacciavo, denuncia. Però è anche vero. Cioè, capito? Fa cagare sta roba. Però, vedi, è proprio sbagliata. Guarda, secondo me c'è lui che dice... Ma lui è libero di denunciare. Ma invece di fare rispondere al mattino... E poi beve la birra. E dopo si buca di vera. Perché non denuncia? Ma lui, ma che lavoro fai? L'inviato dai villaggi vacanze? No, Alcatara. Stava lì in casa, Sport Italia. A bere la birra in piazza. Vabbè, però era un collegamento alla fine. Che stavano chiacchiando dalla... Scusami, dimmi. No, no, niente. Gno, gno. Che finto, dicono. No, ma che finto. Dimmi, rispondimi se tu... Io voglio sapere, racconta lei. Scusami, il racconto... Riguardiamolo di nuovo. Facciamo finta che sei te. E ti succede questa cosa. Se voglio che mi racconti te. Così. Io non denuncierei. Stai in collegamento per il cortocircuito da qualche parte. Guarda, guarda. Io non denuncierei. L'importante è che ci sia la possibilità di denunciare per lui e che le pene vengano combinate allo stesso identico modo. Quante pene gli daresti a lei? Cioè... Fai una valutazione. Ma puoi ridere così? Cosa mi ricerebbe? C'ha ragione, c'è una bella domanda. Ma è chiaramente un doppio senso. No, non è vero. No, quante pene gli daresti? Non quanto, però. Esatto. Veramente imbarazzante. Veramente imbarazzante. Scusami, non ha detto quanto. Cioè, spero che Vincenzo ti stia guardando. Quante pene gli daresti? Quanta pena. Quanta pena gli daresti? Equiparata a quello che se ci sono i precedenti giurisdizionali. Eh, però stavolta non va bene. Ma come non va bene? Non va bene sta cosa. Io sono malato. Stavo tentando di uscire dalla malattia. Sicuramente respirare nel cammino. Come dice giustamente Tulkas, le ricattava con la denuncia per portarli in camera a fare cose per cui potevano denunciarla loro. Però non è molto sveglio. Quando io ho detto minaccio di denuncia, che cosa pensava lui? Che cosa pensava che io pensassi? Che pensassero? Quanta pena le faresti? Esatto. Quanta pena gli faresti a lei, secondo te? Vai, basta. Tantissima. Comunque è incredibile questa cosa. Ma scusate, ma oggi facciamo il cortocircuito? Stiamo facendo il cortolite? È questo? È il cortolite. È il cortolite. Vai, raccontaci. C'avevi un po' di argomenti che volevi mettere in mezzo? No, non c'erano. Come no? Come no? Avevi due argomenti importantissimi? Sì, non avevo due argomenti. L'intelligenza artificiale. Se vogliamo parlare di quello. Ma però... Come avevi detto, quegli stronzi degli artisti? No, assolutamente. Diciamo di che parliamo, vai. Per me quei cazzo di luddisti degli artisti, dei noatri, che fanno le campagne, no? Luddisti? Luddisti, luddisti. Trottisti. Quando arrivarono le prime macchine in rivoluzione industriale, i luddisti furono quelli che appunto rispinsero una nuova tecnologia. E da che viene? Non so da che viene. Perché il luddismo... Lui racconta così ci fosse stato. Lud, cioè da che viene il luddismo? Dal luddismo. Magari, non so se era la città o qualcuno in particolare. Operaio britannico, carriera reazioni violenti contro l'introduzione delle macchine. Sì, ma l'etimologia si serve. C'è che è etimologia? Ned Lude. Ah, da Ned Lude. Un giovane, forse mai esistito realmente addirittura. Guarda, c'è la foto. Ah, che nel 1779 aveva distrutto un telaio in segno di protesta. Esatto. Quindi è diventato simbolo della distruzione delle macchine industriali. Ecco la foto. A me, questi neoluddisti, pseudo artisti... Quindi si usa per tutto oggi luddisti, cioè quando sei contro la tecnologia... Quando sei contro un elemento del progresso, che tra virgolette nel dibattito può comportare anche... La foto di lavoro. Esatto. Una sostituzione. Quando la tecnologia sostituisce il lavoro. Cioè, se tipo tu non vuoi prendere la macchina, non ti posso dire che sei un luddista. Se non vuoi prendere la macchina per venire a Roma, ti posso dire se sei un luddista o no? Non capisco neanche il messo, perché il tuo cervello è riuscito a produrre. Perché sei contro la macchina. Se mi dici, no, io non voglio prendere la macchina per venire a Roma, voglio venire soltanto a piedi. No, non sei un luddista. Però puoi essere contro la macchina quando viene introdotta, per esempio, la sostituzione con il motore, il motore a vapore forse... No, il cavallo. Dal cavallo alla macchina. Immediatamente c'era un motore a combustione o c'era un motore... Combustione per forza a vapore, ma immagino la gente metteva il carbone nella macchina. È così. Magari in quel momento lì potevi... Essere un luddista, ok. Dicevi? Anche se il luddista sarebbe dovuto essere, tendenzialmente, non è che è allargato a chi non è oggetto della ipotetica perdita di lavoro. Quindi il luddista, teoricamente, sarebbe dovuto essere il cavallo... Ah, ok, sì, certo, certo. Poi, ovviamente, per estensione lo puoi fare perché qualsiasi causa sociale civile si allarga ad altri individui. Con che mi dicevi? Che... Allora, il discorso... No, e voglio sapere, prima di tutto, lui, perché ho visto che ne avevi accennato con Kobe l'altra mattina, ma ho cambiato canale perché ho preferito guardare round two. Quella mattina, assolutamente. Perché parlavano. Della stessa roba. Dive un po' di che cosa? Io ricordo, dimentico tutto. Intelligenza artificiale. Eh. Perché dicono che ruba l'arte. Esatto, esatto, esatto. Cioè, hai un'opinione... Però impara l'arte e mettila da parte. No, io ce l'ho l'opinione. Intanto, prima di tutto, quando è morta la carta stampata, nessun grafico è venuto da me a dirmi, ti supporterò. Dovevi farlo, tu dovevi scendere in piazza. Va bene, ma questo qua io lo sono legato al dito. Mi sono legato dal dito tutte le categorie che non mi hanno sostenuto. Quindi quando è arrivato il digitale avresti potuto un attimino dire, la carta stampata sta morendo, dovete morire. Però no, ci sono tantissime soluzioni anche, perché comunque sono problemi nuovi questa cosa qua dell'intelligenza artificiale che riesce a creare l'arte così con qualche parametro abbastanza veloce. C'è sempre, giusto per fare un distinguo... Secondo te, perché ci consigliano, mo' che ci state in live, massigen contro il gonfiore intestinale? Magari hai del gas interno. No, secondo me ce l'ho con te. C'è un piccolo distinguo da fare. Mentre la transizione dalla carta stampata al digitale, gli eventuali luddissi del caso potevano essere quelli delle stamperie. Non più in particolare, perché la tua posizione non è che veniva minacciata da questa transizione. Favij, no? La comparsa dei Favij, perché a quel punto c'era chi faceva il tuo lavoro senza preparazione, l'importante era essere lì e di intrattenere. Ancora non lo trovo molto assimilabile. Ma era la stessa cosa, era un esempio di merda. Esatto. Fatto sta che comunque, secondo me, c'è già una possibile soluzione, ovvero come oggi tu fotografo o comunque illustratore vendi le tue opere a servizi come iStockFoto e quant'altro, non vedo perché chi fa arte non possa fare lo stesso e concedere l'utilizzo delle sue cose, naturalmente dopo essere stato pagato, per essere utilizzate nel pool da cui l'intelligenza artificiale può pescare. Sì, però il pescaggio... Questa è un'idea su possibili soluzioni future, perché la soluzione va trovata. Perché sono d'accordo. Sì, relativamente. Secondo me la soluzione va trovata proprio in fase transitoria. poi deve scomparire, perché non è che devi pagare una rendita infinita come ai cazzo dei tassisti per i prossimi 500 anni perché è arrivato Uber. Non funziona così. Cioè, adesso in transizione effettivamente il sistema economico si basa sul fatto che molte aziende pagano gli artisti per fare anche roba dozzinale, cioè quindi quantità e non qualità, quindi non c'è espressione del sé, ma lavoro, accottimo, pagato, che potrebbe venire assolutamente intaccato. Quindi questa fase di transizione, in qualche modo, bisogna trovare il modo di aiutarli se siamo particolarmente buoni. Non c'è scritto nelle stelle che devi salvare gli artisti. Dopodiché, secondo me il concetto sbagliato è che l'arte in sé... Grazie a tutti per l'hypetrain. L'arte non è di per sé un lavoro. Per me l'ambizione è che la tecnologia ci sostituisca nel lavoro, in modo che noi esseri umani siamo liberi di oziare in modo romano e sviluppare i nostri talenti, fra cui anche produrre veramente arte umana, continuare a disegnare per il piacere di esprimere il sé, ma non per essere pagati accottimo. E questo porta a un'altra riflessione. Io non voglio lavorare, voglio fare il capo. Una cosa alla volta. Vai, prima te. No, perché lo spunto è togliere tre persone dal loro mestiere, che è per esempio creare 150 quadri per il prossimo open world, o 20 caffettiere. Sì, o 300 alberi. 300 barili. Li stai salvando da un lavoro di merda, perché è un lavoro di merda. Sì, ma il problema è che c'è sempre quella fase in cui queste persone... Hanno studiato... Non lavorano, smettono di lavorare. Infatti è un problema... Cioè, come fai? Infatti ti ho parlato del periodo di transizione, se vuoi, perché non sta scritto nelle stelle... Scusami, se io ho una tabaccheria e mi apre di fronte un distributore automatico di tabacchi, se fosse possibile in Italia come non è possibile, e io chiudo, non è che si deve scatenare l'universo e smettere di avere i distributori automatici. Però con questo concetto, però ci deve essere anche un po' di attenzione sociale, perché altrimenti il rischio è che tutto può essere automatizzato... Infatti ho detto, l'obiettivo per me è che tutto sia automatizzato e che l'umanità sia franchi dal lavoro, perché non bisogna lavorare. Bisogna esprimere se stessi nell'azione, non nel lavoro, inteso come prestatore di opere di tempo per soldi, per reddito, e mi fa schifo. Dopodiché, in una società come la nostra, dove c'è uno stato sociale, di fronte a una transizione del genere, qualcosa deve capitare per mettere delle pezze a chi rimane... Come la sostituzione delle licenze di tassi. Ma non blocchi il progresso, non blocchi il progresso, perché questa roba qua, volenti o non volenti, quei cazzo artisti rompicoglioni, non la blocchi. No, non la blocchi. Anche cistinando le aziende che in questo momento ci stanno guadagnando, perché per esempio c'è un conflitto di interessi, perché comunque OpenAI ti fa pagare l'abbonamento per generare le cose che hanno usato. Però, per esempio, resta il fatto che qualsiasi artista, ed è una cosa che viene ripetuta ed è così, chiunque, quando tu disegni, hai guardato, hai copiato Caravaggio, hai copiato sempre il tuo allenamento, dopodiché tu ci metti il tempo e paghi le mie ore uomo. Esatto, che infatti vengono completamente disintegrate dalla I che fa 12 miliardi e riesce a recuperarlo. Ma questo è progresso. Ma poi sulla perdita del lavoro, c'è da dire una cosa, un'altra cosa sull'eventuale perdita del lavoro. Rimaniamo nell'ambito videoludico, ok? High On Life utilizza le intelligenze artificiali per creare, appunto, i poster. Dei prop, dei prop. Esatto, dei prop. È logico che l'artista vero ti servirà in quei prop che devono esprimere ambientazione, o comunque lore, o comunque qualche cosa, mandare un messaggio. Aspetta, oggi? Oggi! Perché oggi non ci arriva. Eh no, ma cosa fai? Li difendi solo quando... No, perché penso che lì ci sia ancora bisogno del bene aggiunto. Oggi perché la tecnologia non riesce a sostituirli, ma fra un po'. No, però l'impeto artistico, lì, quello deve essere comunque umano. Ma deve! Ma deve! Questo dogmatismo mi fa cagare! Mi fa cagare! Ma deve perché? Ma tu puoi continuare a fare i tuoi disegnini di merda a casa e portarli a Pierpao. Serve chi diriga l'orchestra. Serve chi diriga l'orchestra. Ma... Quello è il punto. Guarda Nome Sky. Nome Sky è tutto... O Rimworld, per esempio. La narrazione di Rimworld è affidata a le chiame dell'intelligenza artificiale. Ma se domani la tecnologia arriva al punto in cui io, Alessio Pienesani, a casa scrivo voglio un film con un mago che uccide una cosa e con un click salta fuori un film da un'ora e mezza che posso condividere. Non c'è più maestranze, non c'è più chi gira, non ci sono più attori, non c'è più un cazzo. Io non credo che possa riuscire ad eguagliare... E sticazzi quello che credi. Puoi non crederlo, però chiaramente è basato sul nulla quello che dici. Perché dai un valore alla creatività umana che dal mio punto di vista, positivista, scientista, convinto, verrà completamente asfaltata. Infatti prima abbracciamo queste nuove tecnologie. Che bello è. Assolutamente voglio il chip nel cervello. Io voglio... Elon, Elon, se vuoi la cavia umana per mettere il chip nel cervello, io sono qua. Bassa, la cavia umana bassa. Mi sa che non rispetti. Bassa e vecchia. Bassa e vecchia, se vuoi. Beh certo, campione, statistico. Basso e vecchio. Io appartengo. Voglio il buco nel cervello adesso. Me lo fa Pierpaolo. Trappano. E lo paga l'azienda. No, scusami, però è importante perché questa cosa qui... Ma Alessio è davvero il male assoluto. Poi fa più ridere, fate smettere di urlare il nonno. No. È arrivata la pizza. No, sempre uguale. Tu sei super contrario a quello che dice lui. No, non faccio l'ultimo miglio. Perché ha paura. Percorriamo la stessa strada e poi a un certo punto però ci dividiamo. Sei destinato a scomparire. Su questo pianeta rimarrà solo intelligenza artificiale. O vai in simbiosi con l'intelligenza artificiale o scomparirai. Ma io sono in simbiosi. No, perché io la voglio utilizzare. Sarai un ricordo dell'intelligenza artificiale. Io voglio utilizzarla. Ma fino alla fine utilizzerò il massimo della tecnologia senza farmi utilizzare. Almeno la speranza è quella. No, però io la penso in modo identico ad Alessio. Se non fosse che ho la grande preoccupazione che purtroppo lo stato sociale non è in grado di adeguarsi alla velocità del progresso tecnologico. È sti cazzi. Eh, quello è vero. Perché comunque comporta che... Non si muore di fame in Italia, per esempio. Te lo posso garantire. Beh, a parte che non è così. Tanto io conosco tanti artisti che già fanno una vita di merda lo stesso. Sì, però almeno fanno qualche cosa che possono fare. In quel caso proprio smittono anche di fare qualsiasi cosa. No, lo possono fare per sé e per le persone di viaggio. Ma per sì, ma per sì non è che... L'arte è l'espressione dell'umanità e del sé. Non è nient'altro. Tu hai la mentalità. Non capisci, perché non stai facendo neanche di parlare. Siccome vivi in un mondo, in una società capitalista, dove ti servono i soldi per fare qualsiasi cosa, sia l'artista... Se torno il titolo di cittadinanza, vaffanculo. Beccati 600 euro, cambia lavoro, studia qualcosa altro, se vuoi lavorare e guadagnare di più. Purtroppo la transizione è questa, la tecnologia è arrivata, tutti a casa avete rotto i coglioni. È un mondo di merda, però è il mondo così. Ma sai cosa? È la transizione di merda. Il mondo dove sta andando è bellissimo. Perché io non vedo l'ora che tutti questi sistemi, queste sette dita del vaffanculo, dominino il pianeta. Vado in giro per la macchina e non devo guidare l'automobile. Il lavoro che devo fare quotidianamente è esprimere sé, me stesso, avere interazioni con gli altri esseri umani. Non è bellissimo, non è molto cyberpunk riconoscere, adesso c'è questo transumanesimo che si riconosce in queste mani strane, ambigue, con più dita, intrecciate fra di loro. Questo che combattono, questo lo combattono. No, perché probabilmente è un simbolo che rimarrà con le mani. Io sono andato giù, sono andato giù, sono andato giù, in macchina. È un'iconografia. Sono andato giù in macchina? Sono andato giù in macchina. A prendere il telefono. Perché? Ah, vi hai scordato il telefono? Sì. L'ho anche detto. Lo sai quando sono andato via? Sì, è ritornato. Ah, non abbiamo capito nessuno di noi. Sai perché? Perché Phantom Pain. Questo ormai è una proiezione. Ah, certo, senti il dolore. Cyborg, se tu non ce l'hai, è come se ti mancasse un braccio. Ah, sì. Perché scusami, quando non ce l'hai non ti senti vibrare in tasca. Io invece non so d'accordo. Non ti senti vibrare in tasca. Io non mi sento che mi manca qualcosa. Percepisco che non sono completo. Assolutamente. Non che mi manca un braccio. È ovviamente eufemistico quello che hai detto. No, perché non è un'estensione di me. È una cosa senza la quale non posso vivere. Allora è un buon abbandonato. Ma non è un'estensione. Io non la percepisco come se fosse una mano aggiuntiva che mi manca. È una parte di me. È la mano che ti manca. È una parte di te ormai. Cioè, non puoi allontanare di noi. Guarda, come ho mi sforzo. Dici la grande verità. Siamo già cyborg. Adesso, se un ricco della gente normale, tu non sei nulla. È vero. È vero, però questo è vero. Tu credi, abiti lì lontanissimo, su una piccola collina. Tra l'altro tu sei uno dei ricchi peggiori, perché non sei un ricco, non sei Elon Musk. O Jeff Bezos, che è partito dal nulla e ha creato qualcosa del ricco. Io sto erodendo il bene di famiglia. Lui è proprio il peggiore. E comunque non dai nulla indietro. Non dai nulla indietro. Sono il parassita. Da eredità proprio, il peggiore. 100%. Non è anche ricco per caso, è proprio ricco per eredità. È come lo sceico arabo. È come lo sceico arabo. È come lo sceico arabo, che è ricco perché è il pozzo di petrolio. Però c'è anche chi è povero e appoggia l'essi al centro. Bravo Mandricardo, ma non solo. Quelli sono gli amici dei ricchi che sperano che gli arrivi qualche sordo. No, sono le persone del genere. Quello è lo sgocciolamento, aspetta lui. Questi sono i giovani, i poveri, i brillanti, che hanno le palle per emergere in una società così sbagliata. Come l'apo Elkan, Alessio. Ma veramente? Come vatti? Come giallo gavatti? Come Paris Hilton? Hanno citato a sproposito Miyazaki, hanno citato a sproposito Del Toro. Ma chi? Tutti questi cazzo di artisti. Perché Miyazaki aveva detto che quella cazzata aveva in ordine di disco il giorno. Ma poi non era quello. Non era vero. Era decontestualizzato. Esatto. Era completamente decontestualizzato. Mi fanno cagare, mi fanno cagare. Cioè la questione che io non lo metto in dubbio adesso, a parte fare così esagerare nel conflitto, è veramente triste che l'unica reazione, che poi non so da quanto si è abbracciata, perché vorrei vedere quanti sono. Non puoi sapere quelli che non abbracciano, è sempre così nel mondo. Dopo è scontato che siano la maggioranza. Anche perché hanno paura oramai a dirlo. No, hanno paura a dire mi piace. Ah, ok, esatto. Piuttosto stanno zitti, esatto. Ma non riesco a capire... Quelli che sopravvivranno sono quelli che riusciranno ad abbracciare il prima possibile. Guarda che attualmente, con la tecnologia a disposizione adesso, non è uno schiocco di dita. No. No, devi lavorare. Devi lavorare. Poi la tecnologia andrà sempre più avanti e andrà sempre più incontro. È che cambia la forma di lavoro. Cioè oggi quello che c'ha di figo è che uno come me, che è antidisegno, se mi applico posso tirar fuori, grazie all'intelligenza artificiale, un prodotto. Penso a me con la musica. Non ho studiato mai musica. Mi è stato dato dalla Apple GarageBand e Logic. E io sono riuscito a fare musica. Beh, aspetta. Però aspetta. Va bene. A parte le battute. Però è... Sono riuscito a esprimere me stesso musicalmente. Perché mi è stato dato... Sei riuscito a suonare delle robe intonate. Esatto, robe che avrei dovuto studiare probabilmente dieci anni. La chitarra è stato... Per esempio classico, quello che fa Serino, che ha fatto Serino, non so se l'avevi fatto in un posto roba del genere. L'hai fatto? Sì. Non lo so. Quello della proceduralità degli asset all'interno dei videogiochi. Eh sì, ma che cazzo fai a fare una persona a 150.000 caratteristiche? Gli alberi, una volta, i casi sono due. O c'era un albero replicato all'infinito. Sì, esatto. O c'era uno che faceva alberi. Ci saranno 150.000 alberi. Il giorno c'era un essere umano che faceva alberi. Però... È arrivata la generazione procedurale. Sì, spittri. Foglie di spittri, esatto. E fai tutti gli alberi. Però ci sono degli artisti che per quello hanno perso il lavoro. Ma pensa che il lavoro di merda era fare 150.000 alberi. Io ho salvato la vita! Perché non è neanche stato ritirato. Quindi devi aspettare. No, perché prima di tutto non puoi sapere se per l'artista che si esprime... Blocca però, blocca il messaggio. Magari a lui gli piace disegnare alberi. Ma gli può piacere disegnare alberi nel tempo libero. Magari poteva essere anche un modo per accedere a un reparto... Nessuno! ...che dopo aver disegnato per tre anni ti permetteva di scalare e diventare lead artist. Uno, uno. Nessuno gli impedisce di disegnare alberi alla sera perché gli piace disegnare alberi. Invece di rifarsene sempre può continuare a dire... No, perché vivono nella società capitalista. Ti servono i soldi per vivere? Sti cazzi. Non è sti cazzi, Ale. È un elemento... Cioè la gente lavora perché per come è impostata la società è obbligata a lavorare per poter campare. Io non riesco... E quindi se un artista lavora e disegna alberi... E però è sti cazzi. È come dire che... Io ho un'idea di comunismo che funziona, Stalin. Cioè parli di roba che non è concretizzabile. Però il processo va in quella direzione. Parli di roba che non è concretizzabile. No, non è concretizzabile. Per ora vediamo solamente il lato dove viene eliminato... La transizione. ...viene automatizzato il lavoro. Non puoi fare la frittata. Non c'è la parte dopo. Ma non è proprio impossibile parlare con te. Ma no, stai dicendo una banalità della gente perde il lavoro. Dovessi stare quattro anni senza soldi. I cazzi vada a fare il cameriere. Non sono d'accordo con te. Perché il cameriere robot ancora non c'è. Quando arriverà il cameriere robot? Vai a fare il casellante. Che il casellante è un lavoro sicuro. Ci sono ancora. Non ci sono più. Ci sono ancora. I casellanti. Non è vero. Non sono d'accordo con te. Non è vero. Ci sono i casellanti. Zero. Mi fa cagare. Ma poi non è vero che ci sono i casellanti. Ci sono ancora i casellanti. Mi fa cagare quello che dice. Posso dire una cosa. Ma scusami. Sai che sono contro i soldi che vengono versati per l'azienda e roba del genere? Ma siccome c'è tanta gente... Cioè sei contro i soldi che vengono versati? Sono contro gli abbonamenti. Quelle minchiazze. Ah, sono contro i soldi. La gente può pagare per evidenziare una super chat. Certo, come ha fatto lui adesso come camo. Non c'è una evidenziazione standard che per avere confermiciata. No, devi pagare due punti di canale per farla vedere. Ma basta guardare il canale, sono grandi. Sono gravissimo. No, qualcosa che devi pagare proprio. Su YouTube, su YouTube quello, non su Twitch. Non c'è una super chat su Twitch? No, su Twitch non esiste. Ma scusa, non c'è la... Su YouTube ti metti in testa il tuo messaggio. Sì, ti arriva proprio un figo, proprio colorato. Perché qui scorre in maniera... Cioè qui anche quelli viola... Ma che stai facendo? Stavo cercando. Una super chat. Cosa dice qua? L'intelligenza artificiale non rimpiazza il lavoro degli artisti. Anzi, sfrutta il loro lavoro già fatto per creare contenuti senza nessun credito all'artista originale. Mi sembra veramente critico che una persona come Alessio che anche una verba artistica non vede il problema. Ma perché è una stronzata? Perché se tu prendessi il disegno dell'artista e lo rivendessi, commetteressi un reato. Violazione di copyright. Se lo stile non è soggetto a copyright. Altrimenti cosa facciamo? I colori mettiamo sotto copyright? Uno ha usato il rosso e non lo utilizziamo più. Lo stile non può essere soggetto a copyright. Quindi uno se lo cazzo guarda se riesce a fare un altro disegno con lo stesso stile bravo. L'IA in questo è fenomenale. Punto. Per esempio c'è stata la provocazione di non mi ricordo chi di recente che ha cominciato a produrre roba per esempio con topolino piuttosto che con brand IP e li mettono in vendita le magliette e quelle robe lì. Per me la roba alla QWERTY alla... come cazzo si chiama? Quello pampling Italia che mi denunci. Per me è da denuncia quella roba lì. Perché? Perché assolutamente loro utilizzano i P di terzi e ci guadagnano. Esatto per me quella roba lì va chiusa. Quella roba lì pampling fa le magliette lo sponsorizzano. Ah no quella è tremenda. Però lo sponsorizzano tutti i creator. Perché c'è in questi casi c'è una tolleranza e una rottura di cazzo da parte delle aziende che invece ogni tanto arrivano e possono rompere il cazzo. Mi stupisco. Sai di chi mi stupisco in particolare? Di chi? Nintendo. Nintendo per me è... Che dici che loro sono abbastanza belligerati. Mi chiamano il cazzo alla gente che fa i video. Sono iper protettivi. Iper protettivi. Quella roba lì è da denuncia. Comunque sarebbe interessante perché utilizzano i P cioè crea proprietà intellettuale non lo stile. Sarebbe interessante vedere quanti di questi artisti che oggi si lamentano hanno fatto due lire facendo che sto disegnando Sonic sulle magliette rivendendolo. Può essere può essere anche. No perché però però non farei non mettere non può essere però non voglio denigrare Il tono generale toglietegli la barella a sto tizio su sto argomento lei dice un sacco di cazzate cioè è chiaro che sei indecente oggi non ha preso le pillole cioè ragazzi veramente con i bitly vedi con i bitly con i bitly ci rivela con la super chat male male spero che Alessio stia facendo solo un po' il coglione perché se pensa veramente queste cose è una bella merda bella merda cosa fai? Le pensa veramente assolutamente proprio assolutamente combatterò in tribunale per la libertà dell'intelligenza artificiale al potere potete spiegare ad Alessio come funziona pagare le cose? non ne ho idea io non ne ho idea io non pago nulla sono d'accordo con te fino ad un certo punto dice Super Davide la parte finale del tuo discorso è abbastanza stupida bisogna trovare una soluzione non dire vai a fare il cameriere ho premesso che una società con il welfare può prendersi carico delle perdite di lavoro sono il primo che paga le tasse e le tasse che vengono pagate da me possono essere utilizzate per questi scopi comunque Pantone l'ha fatto non blocco il progresso Pantone l'ha fatto con i colori sono sotto copyright ah beh certo i colori sì sì Pantone il nome può mettere sotto copyright ma non è che tu non puoi usare il loro colore non è vero perché tipo adesso c'è pure quella la formula del nero più nero del mondo ma quello è un materiale se qualcun altro fa il nero più nero del mondo però la gradazione è quella è come il rosso Valentino per rispondere a quello che diceva prima Camo mi sembra se non ci fossero gli artisti queste intelligenze artificiali non avrebbero le fonti da cui attingere questi cazzi quindi bisognebbe riconoscere i soldi ma allora io voglio la fondazione Caravaggio facciamo come stock photo la fondazione Caravaggio si trovino gli eredi se ce ne sono a cui devono andare i soldi imperituralmente perché la gente andava nel cazzo di museo a copiare Caravaggio ma di cosa state parlando la cultura umana è incrementale è vero di cosa parlate quando lo dice così è vero cioè non ti puoi affrancare da questa roba qua è ovvio che c'è un precedente ma tutta l'espressione umana allora quando parliamo il primo che si è inventuto si è inventato vaffanculo gli paghiamo dei soldi certo se tu devi fare una canzone che si chiama vaffanculo non puoi farla perché c'è Masini è incredibile incredibile veramente sapete cosa non sapete astrarre dal piccolo mondo in cui sei un rincoglionito loro pagano le royalties a chi secondo me pamplins dicono che pagano le royalties questo veramente mi sembrano i messaggi che scrivi nelle mie live proprio di robe che non sai sai come si affrancano perché i disegni fai vedere le royalties pagate da pamplins i disegni non sono di pamplins lo tu mettono a disposizione la possibilità per gli artisti di applaudare il disegno che viene venduto in dedizione limitata se vedi non durano quindi dicono è suo esatto la responsabilità sarebbe di quello che ha disegnato loro si affrancano completamente ma ci sono state delle cause però incredibilmente sono ancora aperti questi posti sono basito dai discorsi di Alessio arriva un missile Bona dice sono basito dai discorsi di Alessio privi di umanità e rispetto per il lavoro altrui ma non capisci un cazzo io voglio salvare l'umanità non capisci un cazzo l'uguale perché io voglio salvare l'umanità dallo schiavismo siamo tutti schiavi vi rendete conto che io sono venuto qua in macchina potevo stare a letto oggi che non avevo voglia di fare un cazzo e neanche è arrivata la pizza ma ha detto che mi avrebbe ordinato qualcosa di buono è stata ritirata niente è stato preso in carico dal rider allora dice non me ne frega nulla del copyright dice Kanki perché so che il mondo dell'arte va avanti copiando e riproducendo opere del passato ha sempre funzionato così bravo non lo ridurrei a questo ma questa è la verità questa è la grande realtà questa è proprio la premessa del discorso ma proseguiamo fino alle 15 certo no alle 14 ci bloccano io sono un illustratore cosa c'è dopo è sceso da letto è sceso da letto non puoi guarda non possiamo guarda non possiamo potete continuare un'altra ora si pronto 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 si ripristati guarda sono a cancello si ok mando giù il mio collega a prenderla grazie mille perché non hai detto che vai tu grazie vai scendi perché il collega lui non ha confidenza con il pizzaiolo scusa prendi le birre e prepara qualcosa ti apro intanto il cancello ah no apritelo da giù quando apri si ora preparo le birre no però voglio voglio sentire un po' il tuo parere su questa cosa la pensi come Alessio no io mi fermo prima comunque l'input umano immagino che sarà sempre fondamentale magari non ci vorrà l'input di 100 persone ma 30 persone beh questo è quello che abbiamo visto accadere in mille altre cose no quindi non lo so è che secondo me c'è quel problema come ho detto c'è quel problema cioè allora io sono d'accordo con Alessio esatto come dici te tutto il discorso di fermare il progresso che ovviamente non ha nessun tipo di senso non ha nessun tipo di senso perché comunque ti può permettere di affrancarti da lavori ripetitivi diciamo quelli che non ti permettono di esprimere esatto il problema è che tra cioè come appunto il processo di automazione nelle industrie nelle fabbriche fra il momento in cui il progresso permette di implementare delle robe e il momento in cui la società si adegua per salvare quelli che vengono purtroppo buttati fuori da quelle implementazioni trascorre un lasso di tempo sempre molto lungo c'è sempre chi soffre però è drammatica questa roba però è pure vero che sono nuovi problemi che appunto richiedono nuove soluzioni poi bisogna vedere perché c'è chi per esempio nel campo dei motori ha completamente automatizzato però è anche vero che c'è chi ha fatto della della manodopera una sua forza che è Ferrari che in parte ha automatizzato ma in parte ancora ci mette le mani c'hanno anche una loro fonderia all'interno delle fabbriche quindi il fattore umano ancora lì conta e esso lo fanno pagare quindi ecco probabilmente la capacità umana diventerà molto più costosa e ad appannaggio di pochi probabilmente questo non è bello però è logico che un videogioco che è una cosa che funziona per automatismi anche lì ci deve essere quella scintilla che deve essere una scintilla creativa umana altrimenti hai cioè come li fermi fai un'intelligenza artificiale che caga giochi 24-7 cioè non c'è nessuna perché poi lo dovrebbe fare perché poi si saturerebbe il mercato non avrebbe più senso nulla quindi quella parte lì deve rimanere devo dire un po' la mia parte cinica mi fa godere l'idea perché io sento questi discorsi e sono i discorsi che potevo fare io capito perché poi sono spuntati pure quei siti che ti dicevano mandaci i tuoi pezzi a un euro e cinquanta lo facevano tutti cioè lì anche è successa la stessa cosa c'è anche delle posate ma no ma chiudiamola in quattro facciamo portafoglio mi ha preso come fritto ma chi è che l'ha presa con i giustel c'è Pierpaolo ha preso la pizza con i giustel sei anni sei anni sono messo sbagliati l'altra com'è questa è quella mia speriamo che questa è quella mia ti prego se no te già hai quella con i giustel ti prego è la mia ha preso ha preso la pizza con i giustel molto male è possibile ma hai preso la pizza con i giustel si la faceva ridere ma che ridere è una delle pizze più tristi dell'universo beh certo l'ho preso apposta la pizza con i giustel sei anni sei anni l'ho preso apposta guarda che bello ti piace l'artwork dei cartoni della pizza hai fatto vedere l'unico tovagliolo che t'avevo preso poi diciamo magari pizza in merda ha preso Alessio ah finisci di parla mentre tanto io taglio da Alessio no sono belli no gli artwork dei cartoni cioè guardate quest'artwork del cartone della pizza con questa marinara no che cazzo è comunque photoshopata sul golfo su quello che sembra essere il golfo di Napoli ma non lo è almeno così a vista pensate cosa potrebbe combinare un'intelligenza artificiale cioè l'artista che lo ha fatto secondo voi è soddisfatto no avrebbe preferito non farlo cosa vuoi abracadabra tropic flanders abracadabra la prendo io o sunnyside la sunnyside no quell'altra la seconda la tropic flanders oddio ho sbagliato hai paura non lo so perché tropic questa io l'ho già bevuta no guarda non mi freghi non mi freghi questa la avevo già assaggiata una garanzia unione birrai mai banali non lo so che tipo è odere la Berta odere Saison Saison questa è la Saison che tipo di birra è la Saison? però mi piace molto la Saison a me ma la tua è la Saison che cos'è la tua? la tropic? la tropic flanders ma che tipo di birra è? è una birra che comincia a sfociare un po' più nell'acido più acidella la Saison mamma mia ma sa di marijuana fortissimo è buonissima sì ma è incredibile sembra che che Alessio abbia acceso il camino no sa proprio di erba quindi sfocia nella che cosa? nella marijuana sfocia nella marijuana sfocia nella marijuana quindi è buona fammi sentire l'odore sa proprio di marijuana non fare troppo il fritto assaggiala scusa ma i fritti avevo portato tutti i fritti fuoco liquido qualcuno l'ha bevuta fuoco liquido? sì io l'avevo bevuta come quando ti esce dal sedere è una bocca questa sarebbe quindi pure le bocca sono buone sarebbe però quelle che non ti piacciono a te sono scure è un po' scura sì è scura la bocca o nera sta a metà me la rendi molto difficile sta a metà porco cazzo dai però fai sempre le stesse schifezze però Ale no non sul tappetino non sul tappetino che assorbente c'è sempre gli stessi sbagli fai sempre gli stessi errori Ale veramente c'è veramente come i cretini no come i criceti i criceti imparano alla fine quindi allunghiamo fino alle 15 possiamo allungare fino alle 15 no c'è Alessio c'è Francesco c'è Vincenzo dopo io sono qua chi c'è? ma che fanno? ce l'hanno detto che fanno? no perché magari fanno qualcosa di poco interessante magari preferirebbero non farla c'è più che altro anche tutta sta sbatta per due ore così vedi? ma ci stavamo riscaldando adesso ci stavamo riscaldando adesso eh dicono che c'è un let's play generico cioè che vuol dire? guarda la superficialità da privilegiato di Alessio è sconcertante da artista di professione amante dell'IA non solo contrarre lo strumento ma il modo con cui ottiene il risultato se l'azienda che offre questo strumento creasse un database con opere commissionate pagate ai rispettivi autori non ci sarebbe alcun problema facciamolo mi sembra un po' compromesso per la transizione e l'arrivo qual è? solo per la transizione? e l'IA poi impara da se stesso e manda a fare alcuna tutte queste rotture di cazzo ma poi quello è veramente una cosa da fare cioè fai veramente un high stock foto dove gli alberi allora Super Davide era d'accordo e dice non sono d'accordo solo con la soluzione finale al problema che non può essere vai a fare il cameriere piuttosto argomenta qualcosa sulle possibili soluzioni per fare in modo che la transizione sia indolore a me ha fatto male la mia transizione e nessuno mi è venuto esatto ma cazzo volete perché sta cosa qui non sta scritto da nessuna parte poi improvvisamente voi siete importanti nello stato sociale ci sono gli ammortizzatori sociali oh io li sono reinventato anche oppure prenderete il resito di cittadinanza finché ne avrete diritto basta c'è questa cosa qui che stai dicendo è accaduta a mille categorie prima di voi a mille categorie prima di voi e capiterà anche a me io non ho però problemi a perdere il lavoro cioè quando automatizzeranno che cosa? il fancazzismo vabbè ma te non hai problemi perché sei ricco sai che puoi stare senza lavoro cioè sei sicuro eh e quella è la differenza così è troppo facile com'è questa pizza? vai a salvare l'Africa no perché cioè purtroppo fai dei discorsi che sembri veramente cretino ma che risposta è vai a salvare l'Africa? ma che c'entra? io voglio salvare me stesso non l'Africa non gli altri che discorso fai? no perché tu vuoi arrivare evidentemente a un qualche tipo di appiattimento dici per te è facile allora ti dico togliamo la ricchezza però veramente cioè qual è la tua soluzione completamente senza senso assolutamente te l'ho detto bisogna trovare un modo in cui lo stato sociale sia rapido quanto il progresso tecnologico quando a Mondorex sono pavimentatore spero di essere sostituito presto senza lui che lavoro di merda che fa non sto d'accordo perché tra l'altro per me se non si trova una soluzione per me se non si trova una soluzione tutte le aziende che guadagnano da questo tipo di sfruttamento devono dare il 100% allo stato che lo ridistribuisce a quelli che perdono il lavoro allora per me fai così fai la roba più comunista del mondo il 100% di tutto quello che è oltre la copertura costi cioè devi creare un welfare nuovo tutto quello che va oltre la copertura costi di bilancio va il 100% allo stato per compensare chi ha perso il lavoro a causa di questo questo per me è allora il mio mondo ideale allora lo fa in questo modo per me si così sei sicuro che vedrà che nessuna azienda farà più sta roba perché non gli conviene farla infatti stai abbattendo il progresso ma per me deve funzionare in questo modo no non sto abbattendo il progresso perché puoi fare il progresso senza che questo determini la perdita di lavoro no come no alla faccia come no puoi tranquillamente inventarti migliori tavolette grafiche migliori penne se è passato dalla carta alla digitalizzazione non puoi migliorare il mio lavoro ma allora devi prima trovare una società che funzioni senza i soldi perché non è dice una stronzata perché l'affrancamento dal lavoro lo puoi fare vai in africa ti affranchi dal lavoro coltivi la tua terra e mangi quello che fa la terra basta sei affrancato dal lavoro punto dai dai stai dicendo una stronzata stai dicendo una cazzata nei gangli del sistema stai dicendo una cazzata ti ho già detto un lavoro punto cosa c'è di strano ma sembra che adesso dobbiamo tutelare tutti i posti di lavoro sì no devi tutelare il lavoratore non il posto di lavoro cazzo infatti devi tutelare il lavoratore e gli dai due pezzi e basta finché c'è bisogno ma insomma lo Stato come tutela il lavoratore se non ha i soldi deve raccogliere i soldi per tutelare il lavoratore ma non ci sono le tasse ma non vai a ma ho capito ma la tua soluzione è cancellare i profitti delle aziende che innovano ma che cazzo stai dicendo peccato che non abbia detto questo hai detto quello no no ho detto questo tutti i soldi oltre il costo deve andare allo Stato assolutamente sì però l'ho detto nel momento in cui questa cosa determina la perdita di lavoro ti ho già detto ti ho già detto la questione nel momento in cui questa cosa determina la perdita di lavoro a causa di un'automazione per me le aziende che guadagnano dall'automazione devono coprire i lavoratori che hanno perso il lavoro punto mi pare molto lineare non mi sembra così complessa mi sembra proprio semplicissimo universale per te è folle sono contento che per te sia folle per me è folle quello che dici te per me il che cazzo me ne frega tutti rimangono a casa tanto questo è il progresso vai a fare il camere per me questo è folle perché è la mancanza di rispetto per l'altro che è folle lascia perdere le battute io ho detto semplicemente che nel momento di transizione deve intervenire del welfare ma il welfare che non deve garantire il 100% del reddito il posto di lavoro o robe del genere deve si complessivamente accompagnare queste persone nella transizione e della gente si farà male perché è così che cambiano le cose certo prima o meno ci sia una roba che per cambiare devono uccidere le persone altrimenti purtroppo della gente si farà male no quello è un limite ma non c'entra niente capiti speriamo dico speriamo come dici te perché purtroppo come si facevano una volta gli studi su quelli malati intanto ti trapano ti trapano per vedere se si risolvo peccato purtroppo devi soffrire per me è senza senso ti ripeto tutti i profitti cioè di nuovo dipende chiaramente dal lavoro dal settore da che cosa comporta il tuo progresso eccetera noi a priori chiaramente adesso è il messaggio che ritorna la follia di quello che dice non esisterebbero se non ci fossero gli artisti che hanno fatto le cose che hanno fatto le immagini non significa niente se non fosse stato fatto in questo modo tranquillamente avrebbero preso il cazzo dei Google Car sarebbero andati in giro per il mondo a riprendere le cose e in un modo o nell'altro si sarebbero elaborati il processo sarebbe stato un po' più lungo ma il risultato sarebbe stato esattamente quello che ha fatto l'essere umano che si è guardato attorno e ha detto ha detto provo a replicare la realtà porca puttana non riuscite a strarre dal piccolo mondo in cui vivete siete vittime del qui e ora non guardate indietro e non guardate avanti del qui e ora è meraviglioso cioè proprio è la visione a tunnel non riuscite a fare discorsi a riflettere in modo un po' più ampio i fritti come sono i fritti come sono da chi abbiamo ordinato come si chiama crocchette mozzarella e olive visto che volevi l'olive a scolane buone basta adesso cioè veramente cioè veramente pari proprio un uomo in fin di vita brutti scoreggi non riesci a manda giù veramente fai schifo cioè starti vicino sembra che sta vicino veramente a non lo so che termine usi fai rumori di un boiler di quelli che non funzionano di dare i punti per attivarsi guarda veramente cazzo veramente è roba ecco guarda se le intelligenze artificiali cominciano a fare grafiche tu potresti fare il rumorista sarei sempre a casa a mangiare col computer sulla panza guarda pensa che il rumor rifaresti è incredibile cioè sembri la cantina di tatooine in una persona pensa tutte le persone che possono essere salvate dalle catene di montaggio che tuttora sono qui e che potrebbero essere a casa a pensare a esprimere se stessi a fare castelli dai a questa stronzata dell'esprimere se stessi con i castelli e tutto a fare i castelli di sabbia allora tu continui a non capire che io non sono contrario all'idea di stare in vacanza tutta una vita esatto la tua non è una cosa concretizzabile tu ti ripeto è allora aboliamo la proprietà privata perché così se non c'è la proprietà privata siamo tutti uguali e campiamo tutti bene perché il problema è quello arricchito ti cide le cazzate parli di robe utopistiche non concrete l'utopista è un sognatore chiamate Marco Cappado per adesso chi è Marco Cappado per fare il fine vita a Svizzera l'unico grande politico italiano Bibbia ragazzi andate in Russia con Pierpaolo andate in Russia con Pierpaolo vivete lì per me l'esatto opposto è l'innesima dimostrazione che tutte le utopie non portano un cazzo proprio la grande verità questo è un fatto Pierpaolo che tu ridi o scherzi questo è un fatto li ha e qua e ci devi avere a che fare e non con lo stato che esautore spropria alla vieni è quello ma in che modo al station ha peggiorato le cose cosa no dice che al station ha peggiorato le cose non so legge l'articolo ma è interessante la pizza no mi fa schifo mi fa schifo proprio invece la mia coivistere è eccezionale vabbè eccezionale da quando avevi otto anni che non mangiavi una pizza così allora non è buona è eccezionale è difficile sbagliare una margherita col piozzo in sopra eccezionale vai giù vediamo qual è il problema vai il mouse facciamolo leggere anche a loro se no è un casino giù giù l'ultimo l'ultimo ma non c'è un uno che lo legge automaticamente Claudio Claudio l'intelligenza artificiale che legge il sito vabbè la parla adesso di qualcosa dai non voglio di leggerlo comunque questa pizza è orrenda però ha una sua la mia tipologia vai su dirty pleasure vai su ancora se avete la prostatita leggete questo attivo prima che sparisco vai Alessio ma me lo leggi per piacere sì ce l'ho io guarda che devo fare Alessio vai di corsa non lo faccio subito il pensiero che ho dato da questo che posso percepire del reddito mi aborrisco bitcoin sta arricchendo delle persone le persone dai mi fai leggere quella cosa della prostatita che hanno svolto ovviamente è incredibile che non ci clicchi sopra non posso cliccare sono molto resistente clicca cioè quello il tuo clic potrebbe veramente rappresentare la mia svolta di vita speriamo che i fondi di questo clic vadano a un artista rovinato da l'IA guarda chi c'è l'età non è un'altra cosa ci ha raccontato come conservare la funzione sessuale anche nella terza età quanto ti ricorda un po' perché sembra un po' Andreotti quindi sembra un po' Alessio c'è qualche cosa i colori la prostatita ma dipende Nobel Aretha Tanaka è andato in pensionare da 85 anni tuttavia non è diventato un pensionato né mentalmente né fisicamente il dottore ha 95 anni ma sostiene che è possibile evitare problemi di erezione persino alla sua età voglio vederlo però il letto di Tanaka Nega vuoi vedere il cazzetto di Tanaka vai avanti stavi spiegando non lo so veramente stavamo in un argomento interessante vai spiega infatti perché ha peggiorato e se ne va come tutti i veri capitalisti sganci la bomba e te ne vai no perché loro Art Station dice che noi crediamo che gli artisti debbano decidere in che modo verrà utilizzata la loro arte simultaneamente però non vogliamo fare gatekeeper con i termini del sito cioè loro dicono va bene siamo a sentire eventuali problemi e fastidi degli artisti però non vogliono fare gatekeeping ai danni dell'intelligenza artificiale questa è la risposta di Art Station a grandi linee quindi loro aggiungeranno dei tag nuovi che appunto permetteranno agli artisti di permettere o non permettere appunto l'uso della loro arte in training di intelligenza artificiale cioè alla fine ci sta sì sì ci può stare questa cosa qui assolutamente io ti ho detto dove è il problema ti ho detto chiaramente però c'è anche molta paura immotivata adesso chiaro chiaro perché c'è la convenzione che questa cosa si concretizza in un attimo in appunto come il discorso degli attori virtuali certo prima pagavi 500 euro per fare un bel disegno magari ecco per il tuo sito web per il tuo canale twitch youtube oggi non serve più assolutamente un'icona quanto ci metti a farla sono d'accordo deve sempre esserci un competente non è così banale effettivamente sì assolutamente pensa al povero stronzo che ha inventato la ruota che non ha mai ricevuto un centesimo di royalties del dottor Antani o quello della pizza surgelata quello è ah nelle impostazioni di art station non è già stato inserito non so di quando comunque dicono tutti che il problema per gli artisti non è perdere il lavoro io allora non ho capito qual è il problema per gli artisti gli dà fastidio che l'intelligenza artificiale utilizzi i loro lavori per creare robe diverse che però appunto viene data la possibilità adesso almeno in questo caso ma siamo agli inizi di decidere sì però quella è anche una cazzata perché sicuro sono d'accordo con Alessio cioè se anche io mi invento uno stile non è che poi nessuno può fare disegni ispirandosi a me cioè quella è proprio una cazzata e magari avete più successo quella è proprio quella è per esempio allora se il problema per gli artisti è quello allora non solo sposo quello che dice Alessio ancora peggio dico meglio allora ce la devono prendere triplamente in culo perché l'idea che io ho inventato il rock e allora nessun altro può fare musica rock è una follia egocentrica completamente errata e lo stesso vale anche per l'arte o uno stile particolarmente definibile nel suonare la chitarra cioè Banksy che si è inventato uno stile suo ma cioè non è che allora nessun altro può più fare le decalcografie o applicare un disegno reale su un muro perché lo sta ricopiando cioè quella è veramente quella è la se è così se il problema è questo allora è proprio una stronzata guarda io molto leggo di lamentele nei confronti di chi si definisce artista però lavorando con intelligenze artificiali ah cioè quindi si lamentano gli artisti dicendo ma questo come si permette a dire o a vendere questi servizi in realtà sta vendendo questi servizi perché ci sono già delle figure professionali che dicono ti faccio io la roba ma utilizzando naturalmente l'intelligenza artificiale non la sua capacità di disegno chiaro ma guarda che allora rispondo Sivan Fiorani dice infatti nella musica esiste il plagio mi dispiace darti la brutta notizia il plagio è un'altra roba mi dispiace informati e poi ne riparliamo e per rispondere a mundane events for us e dice se le mie immagini sono nel database del training set hai bisogno del mio permesso punto hai sbagliato a metterle online perché nel momento in cui le metti online le tue immagini finiscono su google immagini e tutto quanto e perché non ti sei mai preoccupato che su google immagini finissero le tue immagini potevi chiedere il copyright potevi chiedere a google e le metti online e le vendi oppure punto stai tranquillo che se la tua immagini la mettevi solo su shutterstock a pagamento stai tranquillo che nessuna IA te la andava a scansionare per poi mettere nel suo database puoi stare tranquillo di questa cosa guarda monkey disaster lavora ad alti livelli con la grafica sono tutte le IA hanno un training set e andrà sempre più a sparire se quello si può provare io sono d'accordo con te purtroppo un training set con un'inferenza artificiale sparirà e presto non sarà più come e per me il dibattito sul fatto che siano state usate le immagini quello allora diventa ridicolo però però il training cioè ha insaputa degli autori ci può anche stare ma non è che puoi accampare diritti effettivamente puoi ma che hai fatto? sono io che parlo mi piace riascoltarmi ma cosa fai? perché ti metti l'audio di te stesso sul telefono? perché mi piace riascoltarmi cioè ma tipo perché senti il toro? perché metti l'audio di te stesso? stavo ascoltando fuori perché è inquietante è sta cosa mi cane con l'asma però è come quando una persona ascolta 10 dischi ma infatti non è bloccabile ma pensiamo al sampling poi oltretutto il sampling ha sempre dei limiti perché effettivamente dove si arriva con il plagio e dove effettivamente c'è l'ispirazione però il plagio c'è una roba che dimostra in tribunale ci sono delle regole proprio per c'è il reato di plagio che è se hai copiato si ma rispetta esatto melodica se ci sono più di 7 8 note conseguenti non sono per esempio plagiabili le sequenze di accordi perché se è roba che metti sotto copyright le sequenze d'accordi non se ne esce più cioè come cazzo fai ecco i Beatles e compagnia che hanno fatto il giro delle 7 chiese è impossibile cioè lì blocchi il monini va fallito impedisci pensa al giro di Dode Vasco Rossi è senza senso smetti impedisci alla gente impedisci alla gente di produrre qualcosa di nuovo ovviamente partendo dall'esistente perché tutto quello che produciamo come si dice noi siamo sulle spalle dei giganti tutto quello che esprimiamo è sempre il frutto dell'opera di sintesi della nostra teatroia c'erate fame di mortaggi vostra ragazzi erano 18 pezzi mi sono rimasti 3 cioè fate veramente vomitare fate veramente fate schifo cioè erano 18 pezzi cioè adesso vuoi la mia pizza? no vabbè ma fai cagare no ma almeno il rispetto di prenderne un po' a testa ne ho prese uno cioè che schifo è tutto registrato merda fa veramente vomitare fai cioè erano 18 pezzi di roba sono rimasti 3 e poi e poi cioè io boh veramente che schifo hai una cazzo di oliva scolana io ho mangiato perché a te non piaceva la tua pizza di merda fai vomitare fai che bestie di satana sarà stata la i mamma mia cioè veramente fai schifo fai ma poi neanche una cazzo di mozzarella ti sei maniato 8 mozzarella mozzarelline non ho mangiato neanche una erano tutte olive ma com'è possibile adesso erano 8 olive mascolane 8 mozzarelline e 8 crocchini nemmeno la differenza anzi 24 pezzi neanche 18 cazzo è un criceto e poi è andato lontano hai capito perché si è alzato perché c'era bocca pia ma fa vomitare tutta la roba vedete il bar il bar vedete come si diventa miliardari lo vedete come si diventa miliardari che fai ma le puoi mangiare guarda che cazzo sono rimasti due olive di merda mi fanno anche cagare fai schifo comunque veramente hai buttato qualcosa su una cazzo no ma fai schifo fai cioè veramente fai chifo 24 cazzo di pezzi guardate si vede piragna si vede le pallette e comunque ma questo è un articolo vecchio quindi è quello di quando artstation aveva fatto l'opt in opt out però era l'opt in automatico e dovevi andare a fare un percorso della madonna per fare l'opt out o metti il tag e niente ragazzi da quel punto di vista lì c'è ben poco da fare dal mio punto di vista il processo è qui è ora e poi voi vedete questa cosa qui perché è quella che esplosa a livello di pubblico è la più accessibile con me giorni no l'intelligenza artificiale nel frattempo sta andando avanti cioè adesso si stanno veramente quello che citavo prima dei video con google c'è già adesso la possibilità di generare dei video quindi tu metti non ti sente nessuno l'orsetto l'orsetto in a new york che va con lo skateboard e adesso ti genera un video il problema è che ogni frame subisce lo stesso problema dell'intelligenza artificiale che difficilmente riesce a replicare lo stesso stile per esempio adesso non vedo l'ora che mettano dei paletti per cui è molto difficile creare una storia perché lo stile dell'immagine è difficile da ripubblicare in un altro contesto quindi se io metto voglio fare la paola di Pierpaolo e lo metto si sveglia è piccolino cresce c'è un'inconsistenza artistica per tutta la durata che assolutamente deve essere superata ma a breve ci saranno dei parametri che saranno bloccabili parlando di cose serie ma con l'IA posso creare i miei entai personalizzati in base alle categorie che inseriscono anche con persone famose purtroppo no purtroppo no come no no perché ah perché il porn è bloccato eh tutta quella roba lì è bloccata ah sì a meno che a meno che guarda forse lo puoi fare lo puoi fare se ti scarichi ovviamente siccome sono di pubblico dominio si chiama OpenAI per un motivo tu vai su GitHub te lo scarichi te lo installi sul tuo computer e roba del genere e a quel punto lo istruisci solo con immagini entai e autonomamente puoi produrre il cazzo però quelle pubbliche hanno dei limiti hanno dei limiti sull'identità se non sei persona pubblica e sul come cazzo si chiama sull'identità e sulla pornografia hai visto le immagini di Britney Spears e il marito create dall'intelligenza artificiale sono indistinguibili cioè erano fotografie o immagini sono fotografie fotografie però sono fatte dall'intelligenza artificiale e allora a colpo d'occhio sono assolutamente reali Britney Spears e and husband perché ha ancora un marito non lo so AI AI fai AI e basta AI non sono queste che avevo visto io vediamo su tutti vediamo se credo che siano vere è incinta OpenSup comunque ci sono c'è Brad Pitt con Marilyn Monroe per esempio Brad Pitt Marilyn Monroe cazzo è fai la gara di piombare la lattina come in America fai il buco te l'hai mai fatta quella cosa lì? io non l'ho mai fatta ma perché non la bevi dal cosa? no quella che la apri poi ci fai il buco e ti arriva tutta insieme no perché chissà ho scritto Marilyn Monroe Google è più intelligente di te comunque c'è una bellissima foto di loro due sul red carpet creata l'intelligenza artificiale red carpet ma non è che magari ti confondi col film no no perché c'è il film che hanno fatto Brad Pitt con quella lì che ha fatto Marilyn Monroe no no è proprio Marilyn Monroe AI 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 cioè stanno fuori stanno no non c'è si è roba che gira sui social probabilmente esatto facciamoci la notizia subito comunque non sono d'accordo io sono art director per un'agenzia creativa come non posso prendere io immagini da Google e utilizzarla per i miei lavori non può prenderle neanche le IA e sti cazzi non puoi usare l'immagine originale grazie al cazzo paga tutto deve essere pagato come giusto che sia non tutto se usi l'immagine di un altro nel lavoro di un altro il database dal quale viene presa l'immagine deve essere chiaro gli artisti remunerati per i diritti no è dibattibile questa cosa perché l'ispirazione allora è come Google che mi mette lo snippet presso dal mio sito nel risultato di ricerca senza che tu clicchi sul mio sito è un discorso che va avanti da dieci anni ancora oggi non vengo pagato anche sulle immagini che trovi con una ricerca su Google immagini vigil copyright non è vero è indicato laddove l'autore l'ha indicato ci sono degli strumenti per esempio lì a me stupisce che le blockchain non siano diventate uno standard per quanto riguarda la gestione delle immagini digitali su internet in modo che ovunque se lo portano dietro però il problema è sempre che tu puoi anche mettere questa immagine sotto NFT ok il problema è che io faccio lo shot la copio la incollo e l'ho già bypassato hai visto gli NFT di Donald Trump che sono stati rubati le immagini sotto e la sua faccia photoshoppata e ovviamente sono immagini di non mi ricordo di una squadra di serie C2 di di food ah lui ha venduto degli NFT di immagini rubate cioè non di sua proprietà ci sta lui sempre in pose super fighe e in realtà poi è spuntata vabbè basta già guardare sta roba non è ispirazione se prendono una mia immagine che viene presa per interno è modificata è mixata con altre non è prendere ispirazione no esattamente questo è l'ispirazione perdonami ma prendere il lavoro di altri esatto guardarlo e mixarlo e rifarlo con la propria idea è esattamente quella l'ispirazione altrimenti definisci mi ispirazione Flav23 forse per lui è senza guardare sei ispirato senza guardare ha sentito cioè tu che ti racconti sto vedendo ti racconto guarda questo disegno è fatto così con questo uso tu sei chiusi e allora lo fai allora quella è l'ispirazione è veramente è veramente difficile però è così vi mancano le basi per conversare questo è il problema ed è difficile conversare con voi perché chiaramente non capito il cazzo guarda Monkey Disaster è uno proprio che lavora ad altissimi livelli quindi se c'è scritto qualche cosa di Monkey e dov'è io l'ho prima ha detto ma che dire ci hanno provato Ale Art Director per l'animazione non lo so recuperare Art Director per l'animazione lui sta proprio ad altissimi livelli ma lavoro anche in Unreal ma io dopo è scontato cioè che lui lui non è allo stato attuale non è a rischio perdita lavoro perché non mette nemmeno io penso assolutamente ma ma ti posso dire una cosa fra dieci anni non avrà più il lavoro che un Art Director purtroppo non avrà da lavorare cioè beh non è vero perché comunque deve creare una coesione deve creare delle sorprese sì dipende a che livello però sì però quelle posizioni lì cioè tutti gli artisti andranno a competere per quelle posizioni certo cioè sarà veramente una guerra all'ambiente però magari aumenteranno i posti la ricerca per queste versioni qua secondo me c'è l'intervista del tipo di Mid Journey che è un ragazzetto c'è farà 24 anni ah beh certo quelle robe lì vengono fuori da giovani vorrei concludere visto che abbiamo gli ultimi due minuti vorrei concludere veramente un peccato chiudere questa vuole lasciare la palla a Vincenzo con questa notizia ah ma l'ho letta questa c'è pure la foto guarda lui dice che c'è caduto in ospedale con bomba nel retto momenti di paura scatta l'evacuazione l'uomo si è presentato al pronto soccorso a Tolone raccontando di aver utilizzato il proiettile d'artiglieria per procurarsi piacere e di non essere più riuscita in strada però vedi è è un titolo normale nel titolo tu già capisci che non non bomba nel culo stava per esplodere leggi non c'è stato niente da fare l'ospedale a Tolone in Francia scattarono l'arme bomba quando all'ospedale si è presentato un ottantotenne che si era infilato nel retto un proiettile d'artiglieria della prima guerra mondiale l'anziano si è presentato all'hôpital Saint-Mose della città francese sabato mattina raccontando ai medici di aver bisogno di aiuto perché dopo aver utilizzato il proiettile per procurarsi piacere non era più riuscito a estrarlo un pezzo d'artiglieria da 8 pollici lungo 20 centimetri con 5 centimetri di diametro insomma è meno piccolo 5 centimetri di diametro non è meno piccolo aspetta fino a di 5 centimetri di diametro nel culo aspetta insomma non è non è grandissimo come dildo è un grande dildo ma forse è grandissimo come supposta esatto quando entra completamente è esplosivo il personale dell'ospedale ha così subito fatto scattare l'allarme bomba disponendo l'evacuazione parziale della struttura mentre l'equipe chirurgica rimuoveva l'ordigno il medici e il punto soccorso dell'ospedale di Tolone hanno quindi raccontato a Vahmaté il quotidiano di informazione del sud-est francese che nel corso degli anni hanno avuto diverse esperienze con persone arrivate al punto soccorso con oggetti nell'ano ma è la prima volta per un proiettile nel sedere ci siamo abituati a trovare oggetti insoliti infilati là sotto dove non batte il sole una mela un mango perfino una bomboletta di schiuma da barba ma un proiettile d'artiglieria quello non era mai capitato secondo te da cosa deriva questa questa corsa all'oggetto stravagante da infilare non è stravagante perché è l'oggetto comodo è il primo che trovi non è stravagante è il primo che trovi non ti fai a comprare un dito l'abbiamo se ti passa sotto è questo che mi sto chiedendo c'è c'è un'urgenza particolare devo infilarmi qualcosa nel culo cosa c'è c'ho 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 la testa di Mussolini e beh certo per chi ci sei lì ti vuoi fare una sega la prima cosa che ti capita sotto mano la prendi perché ti subisce subisce perché non essendo un oggetto ma non mettere il proiettile d'artiglieria ovviamente è estremo eh capisci cioè magari io non so la bottiglia per esempio una bottiglia di una bottiglia di birra ti può entrare completamente nel culo non ne ho dicelo beh maggiori sì pure una lattina cioè più o meno il proiettile sarà stato almeno come questo 5 centimetri dietro è questo secondo me è questo è anche più lungo perché questo secondo me è meno di 20 centimetri di lunghezza però non è mai capitato ecco cioè secondo me tu dici che scusa tu dici che è piccolo no no scusami siccome prima dicevi che era piccolo rispondi dillo adesso ma che lo guardi è piccolo tu non lo sai come sono abituato ma secondo te è piccolo non è piccolo cioè pensa che il mio pene è questo così no ma pensa quando deve entrarti in questa parte adesso no quando è passato no quando è passato ma devi entrare all'inizio ah all'inizio ah è certo all'inizio però se è lubrificato il proiettile però dice appunta è proprio una supposta sì sì è vero è ragione è ragione perché poi c'è quel problema prima di andare via ti devi pulire perché fa schifo sono 16 centimetri infatti per me è più lungo 20 centimetri infatti comunque non puoi dire che non ti è mai successo che sta lì in quel momento sul momento dai non ti cazzate c'è una candela sta lì sulla destra dici per un attimo non ti è mai detto ma metto qua la candela ma dai non ci crede veramente non ci crede nessuno tutti il telecomando il telecomando occhio il mio canale dai metto Netflix col televideo niente però è veramente triste sono le 14.01 dobbiamo lasciare i canali ma è davanti un'altra oletta serena è veramente triste è più che altro è tutto questo sbattimento di venire sul più bello che poi è quello che dici sempre anche con le donne tutto questo sbattimento di venire assolutamente è vero rimaniamo in diretta e guardiamo cosa stanno facendo e non possiamo perché non gli possiamo lasciare il canale se siamo noi live li dobbiamo lasciare il canale ma cosa giocano? c'è penso che si giocano una gagata non lo so adesso mi fai delle domande c'è scritto let's play multiplayer ma qual era il motivo di riempire così brutta cioè tipo domenica ci sarà una live non la potevano fare domenica? domenica è Natale però credo che non ci sia niente eh la potevano fare potevano fare a Natale la sera è vero perché c'è un buco? allora allora aspettate che ritorno su di noi Alessio annuncia quando ci rivediamo visto che sei il pinto affarato tra noi tre dieci? quando è il primo mercoledì dopo il sei? credo l'undici perché vi sembra venerdì sia la Befana sia sei sia venerdì ci rivediamo l'undici sabato sette domenica salutino potrebbe comparire perché tanto io non posso andare da nessuna parte perciò che senso puoi andare da nessuna parte? te parti? ma vado vignola non posso andare in vacanza quindi cortocircuito annunciato ufficiale l'undici non c'è possibilità che torni il cinque? il quattro? non lo so ufficiale l'undici state allerta stay tuned seguiteci sui social io potrei non esserci il dieci undici eh quindi eh devo andare a Londra a vedere? eh posso dire ah c'è un gioco? no c'è una festa ma che cazzo fai? ma la festa dei proiettili? la festa dei proiettili? la festa dei proiettili della prima vera mondiale la festa dell'artiglieria e quindi speriamo l'undici ragazze altrimenti il diciotto non abbiamo neanche stappato ma hai preso una pittura lo sai che avevo preso un prosecco l'ho messo in frigo quando sono arrivato? ho portato un prosecco l'ho messo in frigo dai che ci sta il let's play con la redazione ciao a tutti statevi bene rimanete con Vincenzo io invece con voi ci vediamo domani alle 14 con Tectonic te e Francesco quando ti rivedono? fammi vedere se venerdì c'è qualcosa pausa caffè con Francesco domani mattina con Francesco e alle 14 con Pierpaolo che palle e alle 16 con Vincenzo molti ore risponde penso che vincenzo alle 16 ah sei te? c'è l'intelligenza artificiale sei te alle 16? l'intelligenza artificiale quindi non sei te però si è ispirata a me però la denuncio ciao statevi bene buon proseguimento e nel caso anche buon Natale auguri fuck 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 fuck